dunque siete appena usciti da uno scontro molto arduo con probabilmente quella che era la destratrice, la maestra dei monaci e dei ninja che erano per ghiacciate chiaramente c'è chi ha avuto più difficoltà e chi meno durante lo scontro probabilmente Aydan si è sentito forse per la prima volta in molto tempo veramente in pericolo di vita tant'è che è letteralmente sbiancato e non solo per la paura infatti direi che non c'entra nulla la paura, ero totalmente sotto controllo siete nel dojo della fortezza e siete in cammino per arrivare a fondo in questo mistero, in questa battaglia per scoprire chi si chela veramente dietro le spoglie di Torborg Silverscore in questa stanza vi sono due porte di fronte a voi una proprio di fronte ad Akira e l'altra spostata leggermente più in basso apparentemente uguale uso la visione un attimo scusa, queste qui le avevamo già controllate non c'erano dentro nulla beh, non vi è malvagità né nella stanza davanti a Akira né nell'altra dunque allora, la prima cosa che faccio ah, correggimi se sbaglio le dosi di veleno una volta applicate all'arma rimangono, giusto? ehm, sì penso di sì penso di sì sì, c'è fino a che non la scatti esatto, esatto dovrebbero rimanere in teoria allora, facciamo così voi vedete Akira che Akira era ancora sul cadavere della tipa e aveva il suo pugnale in mano e prende il pugnale e camminando verso di voi vi guarda e dice trovate che il veleno sia un'arma accettabile? è un'arma come un'altra Tau no? personalmente lo trovo un mezzo effimero è indifferente c'è chi usa la magia chi usa i poteri che le divinità gli concedono poi dopo tutto non lo stiamo usando su degli innocenti ad ogni modo è un mezzo come un altro perfetto allora userò questa lama che prima aveva portato il male e ha cercato di ucciderci e la userò contro coloro che cercano di uccidere noi con lo stesso veleno che ha cercato di corrompere le nostre vene le tue fratello è un veleno piuttosto potente tra l'altro prendo una dose di di lama di morte e la applico al pugnale che non mi fa mi sembra che non ti desse poi i sognius esatto si 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 tra l'altro potete farmi una prova di alchimia o di natura natura il veleno lama di morte da quel che ti ricordi dai tuoi studi Aidan non ha esattamente l'effetto che ti ha provocato in te quindi ne deduci che doveva essere un veleno diverso ah beh in realtà ora che lo guardo meglio penso che non sia lo stesso che mi ha colpito questa cosa dovrebbe fare esattamente Andrea allora allora il veleno lama di morte è sostanzialmente una versione meno potente del veleno che ti ha colpito lo puoi riconoscere dal fatto che ti sei sentito come istantaneamente drenato della della tua energia mentre l'ama di morte agisce più lentamente più in maniera in maniera meno aggressiva sull'organismo ma tipo nel giro di minuti o semplicemente fa meno danni no sempre in realtà si fa meno danni ok quella è meno aggressiva dell'altro puoi farmi un'altra prova Dina di natura l'estratto di loto nero un veleno potentissimo mortale sei stato assai fortunato a scamparla si come dicevo questo che è in mano è soltanto una versione più blanda di quello che mi ha colpito penso che comunque ci darà una mano nel nostro nel nostro intento tra l'altro l'ama di morte richiede una ferita mentre l'estratto di loto nero un mero contatto ora che ci ripensa è stato un mezzo miracolo sopravvivere a quel veleno sul momento ero sicuro di resistere ma a posteriori in effetti perfetto cosa fate allora applico una dose di lama di morte su ok sul coso sul bacio mortale poetico e poi aspetta ok intorno a tavola io se vuole che sono pronto ad entrare ok si si allora la pozione di vanish aspetta allora allora fino a 5 round va bene allora la vabbè il pugnale con lama di morte me lo sono tenuto me lo tengo cioè tipo alla cintura pronto per essere estratto ok cominciamo a andare se ne mancio andarcene in giro perfetto quale aprite? questa direi bene allora forse è meglio ecco ok entrate in una cella particolarmente identica a quella a quella che avete trovato nella che davano sul dojo solo che l'unica differenza è una porta che dà su un altro corridoio questa camera così blanda identica alle altre che sembra quasi servire da anticamera per un altro corridoio vi dà una strana impressione al che come di vostro solito ormai siete abituati iniziate a cercare per bene nel caso vi fossero vi fossero cose che vi siete perse con una rapida occhiata dopo circa qualche minuto notate un'insolita quantità di di terricce di polvere di mattone sul pavimento della camera cioè che sembra stonare con il resto delle stanze cercando cercando bene attraverso queste queste montagne cumuli di terricce di polvere riuscite a identificare sulla parete un mattone fuori posto premendolo portandolo portandolo in avanti la porta che si trova di fronte a voi si apre resta si ok prima avevamo provato ad aprirla per commenti convenzionali no in realtà cioè se avessi provato ad aprirla era beh comunque anche provando ad aprire era bloccata semplicemente ok allora invece che continuare di lì vado di qua apro questo ok questa stanza austera contiene un semplice tracciglio e una ciotola d'argilla del bere la sola concessione all'ostentazione è un paravento laccato spionitamente dipinto con immagini di lumi e montagne disegnate in stile elaborato vado ad esaminarlo tipo ok fammi un valutare e fammi schiccio l'app e posso farmi anche geografia e o locali quindi hai detto e tira tutto eh tira tutto si tiro tutto il più alto il 26 è da praise e la conoscenza 20 locali ok allora aiden chiaramente lo stile di questo paravento è piano non è molto difficile da ricondurre ad uno stile orientale pensi che possa valerare in circa 200 monete d'ora questo è un piccolo tesoro in effetti potremmo recuperarlo dopo inoltre inoltre pachira andando a smirare il paravento notico di esso vi è un piccolo bollo di cuoio dove all'interno vi sono abiti dalla bandaya e altre proprietà comuni tra cui una specie di kit con trucchi vari probabilmente pensi che sia molto adatto per camuffarsi e un'elaborata cerbottana fatta di giade la dislazzoli la quale però è chiaramente uno oggetto in più in un uno scompartimento laterale trovi 150 monete d'oro in monete tiane e una lettera in in scald con un sigillo presso riconoscibile il sigillo sia riconoscibile per farmi una prova di nobiltà cos'è che ti dà fastidio andi boh non lo so io ti sento tipo con un eco come se parlassi dalla cantina con un eco no io invece ti sento no ecco è tipo appunto usi il microfono quello del basso del computer non usi il microfono den headset insomma allora aspettano qui c'è tipo tutto che cazzo sto dicendo stasera aspettano nobiltà 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 io invece ogni tanto tipo lo sento sparire per un secondo due sì ma quello lo fa sempre non è che ok mi senti molto meglio sì perfetto hai anche la connessione che ha qualcosa che non va allora la lettera è in scald e riuscite a identificare il sigillo sigillo del silenzio perché da ciò che sapete su swishen cioè ciò che sapete su swishen è che slay ha una proprietà magica che le consente di leggere e cardire il significato di qualsiasi scritto quindi per quanto sia scritto in scald con lei riuscite a decifrare ciò che ciò che è scritto nel documento e apprendete che si tratta di una lettera firmata da steyn aquila sanguinaria il re di di kalsgaard che conferisce l'autorità al portatore di reclamare il comando di qualsiasi uscarlo del re entro tre chilometri da kalsgaard per un massimo di 12 ore un singolo uscarlo per 12 ore si fammi linguistica si purtroppo però chiaramente falso vi sono indizi nella scrittura nel simbolo la lac la cera con cui è stato apposto non corrispondono ai documenti ufficiali delle terre dell'innorm ok di conseguenza è falso se la volete utilizzare dovete solo sperare che che ci caschino probabilmente la daremo la daremo in pasto al al sistema nel senso andiamo diciamo che qualcuno sta facendo dei falsi infatti proprio tauno tipo guarda cosdegno il falso dice questo insieme ai registri sono la prova definitiva per mettere al bando questa organizzazione se c'è un minimo di onestà nel re di queste terre c'è qualche nome sulla sulla lettera no generica ho capito ok dopo questa breve parentesi della stanza che chiaramente apparteneva alla destratrice Moriani proseguite lungo il corridoio che avete aperto con il mattone segreto sulla sua sinistra entrando trovate praticamente quasi subito una porta altrimenti a dritto il corridoio continua fino ad arrivare dalle scale che scendono tra l'altro questo corridoio è chiaramente sotto scavato nella roccia naturale nel senso il il resto del dungeon ha delle pareti più greze mentre no volevo dire scusatemi delle pareti più elaborate mentre questo sembra di nuova fattura come se fosse stato aggiunto dopo ciò che era stato costruito prima ok perfetto porta o scale vabbè porta se viene prima la porta però come al solito prima osservo osservi l'interno della della porta con l'individuazione dell'allineamento e io col magico come al solito vi è sia aura magica che aura malvagia per venire dall'interno della stanza perfetto attaccata mi ferma ad analizzarla allora l'aura magica ti dico subito l'emanazione dell'aura magica è aburazione mentre l'aura malvagia allora l'aura malvagia ti dico subito si si poi la porta la porta l'aura l'aura malvagia town è alquanto peculiare potente un'aura così potente potrebbe appartenere ad un essere estremamente potente o ad un chierico oppure ad un non morto o ad un esterno chiaramente ti viene quasi distinto escludere la prima opzione escludere la prima opzione hai detto si esatto l'opzione di un essere talmente potente deve avere un'aura ok e là invece l'aura di abbiurazione è quanto è potente direttamente appunto cosa? l'aura di abbiurazione quanto è potente invece non so che problemi abbia discord porco dio mi hai sentito o no? si ho detto è di media potenza ah ok d'accordo ok dunque beh ci prepariamo dentro c'è una una peculiare aura corrotta fate attenzione senti io faccio per aprire la porta però prima guardo guardo un attimo verso Akira faccio facciamo così apro la porta nel caso qualcosa si scaglia contro mi frappongo altrimenti lo carichi va bene cioè uso proprio lo carichi si si è come azione preparata cioè apro la porta se vedo qualcosa che si scaglia contro si perfetto aprite la porta da un bracere nell'angolo di questa stanza risplende il tenue bagliore di carboni ardenti e si leva del fumo dall'odore simile a quello della carne bruciata un piccolo letto la cui testata è stata scolpita a forma di demone dalle fauci spalancate poggia contro una parete mentre dal lato opposto è stato collocato un piccolo tavolo carico di libri e pergamene e con uno strige impagliato appollaiato su un ramo un cerchio magico è stato tracciato al centro del pavimento come un gesso foglie di carta strappata brandello diceva buffito e altri rifiuti giacciono sparpagliati per tutta la stanza ammassati soprattutto negli angoli sotto il letto e sotto il tavolo il cerchio è ancora integro? il cerchio non è completo ah ok non avevo capito quel dettaglio perché non l'ho perché non l'ho detto ok però come la tua vista balena sul cerchio e noti che manca qualcosa merda qualunque cosa che è successa qui non è positiva questo genere di cerchi normalmente servono a proteggersi da creature evocate o cose di questo tipo e non è completo o magari nessuno l'ha finito eh infatti non è completo c'è comunque un aura malvagia ma non vediamo nessuna creatura all'interno? no laura malvagia tauno viene da sotto il letto no è un monster dai peggiori incubi guardo a te e indico sotto il letto allora intanto tu 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 Aidan fammi una prova di statienza magica o conoscenze arcane chiaramente l'abbozzo del cerchio sul pavimento è appunto come avevi già spiegato l'abbozzo di un cerchio protettivo da usare per un incantesimo di legame planare diciamo che l'osservandolo meglio è la conferma di quello che voglio ha presupposto ok posso confermare quello che ho detto prima è sicuramente un cerchio di protezione per incantesimi di evocazione e quel qualcosa potrebbe essere là sotto allora io immagino che vuoi essere sempre sulla porta a parlare non siamo entrati chiaramente non stiamo urlando però immagino che possa sentirci simpatica esterna senti con conoscenze e religioni non non potrei conoscere il creatore beh è impossibile potrebbe essere qualsiasi cosa letteralmente ok cosa fate? faccio un passo dentro ok non succede niente nessun mostro ti carica laura malvagia rimane sempre sotto il letto e magari nel frattempo ti guardi un giro nella stanza con la luce soffusa del bracere chiaro chiaramente gli oggetti sul tavolo sono strumenti di ricerca magica assortiti tra i quali vi è anche una pergamena che però non riesci a decifrare non hai la minima idea di cosa sia però sembra magica posso usare sapienza magica si puoi usare sapienza magica puoi darla a didam puoi fare quello che vuoi comunque io prima che loro agiscano faccio un cenno di fermarsi e poi uso rileva pensieri verso il sotto del letto rileva pensieri interessante quindi semplicemente rileva all'inizio la presenza senza di pensieri che intelligenza bisogna avere per rilevare pensieri uno ah in che senso per rilevare uno cioè presenza senza di pensieri quindi creature consce con uno o più di intelligenza immagino abbiamo un punteggio quindi sì ok e poi quanto è intelligente tecnicamente qui dice che potresti dirmi anche il valore però tu hai sempre dato semplicemente un valore relativo è estremamente poco intelligente la stregua di un animale ok e nel terzo round deve fare un tiro salvezza su volontà altrimenti cosa percepisco i suoi pensieri cd tredici è sotto il letto penetri nella mente di questo essere così abietto gli unici pensieri che balenano nella tua mente tu praticamente per un attimo entri in una specie di transe e ti vedi letteralmente scavare nella mente di questo tipo vedi la tua figura imponente che l'osserva verso il basso e gli ordini di darti i suoi pensieri questa creatura sembra per un attimo cercare di reagire cercare di trattenersi ma poi si apre completamente a te attaccare mordere prendere strisciare questi pensieri ripetuti difendere e nient'altro è una creatura stupida non penso che sia un beh no in realtà sono sicuro che non sia intelligente sarà un qualche tipo di diavolo o esterno crudele beh ad ogni modo provo ad una zampata sul letto ok preparo l'azione di pugno stordente come tu tauno probabilmente ti fiondi sul letto con un calcio da sotto iniziare a sentire una specie di come di 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 non mi viene la parola qualcosa che striscia scusatemi all'improvviso esce fuori questa mano enorme in decomposizione che si sfionda su di te Akira ok puoi attaccarla è un pugno stordente si è enorme è una mano praticamente di taglia media è una mano? si una mano come dicevo una mano strisciante cazzo è immune allo stordimento però comunque fai danno giusto? ok prende esce fuori dal letto questa mano strisciante decomposta che emana un fetore assurdo e si fionda su di te Akira tu carichi il pugno come ti ha menzionato il monastero lo fiondi verso di essa pensando probabilmente di stenderla con un colpo e invece è sempre lì di fronte a te che è incassato tirate iniziativa per nord lo vedete? si perfetto metto l'iniziativa per qualche ragione c'è già 24 18 10 8 perfetto vai Aiden ok provo a identificarla quindi si religioni è una mano una mano strisciante gigante un non morto puoi farmi due domande ok le sue resistenze i suoi attacchi speciali beh allora le resistenze sono quelle dei non morti ai tratti dei non morti chiaramente capacità speciali sostanzialmente sguazzando all'interno del sangue di un nemico questa mano riesce ad ottenere dei delle abilità soprannaturali che le consentono di colpire in maniera migliore la propria fede inoltre quando danneggiata da un'arma da taglio o da perforamento c'è la possibilità che fuoriesca del pus nauseabond ok allora questa è la prima cosa che dico a tutti ragazzi non colpitela con armi da taglio o perforanti vabbè io vado a farmi una passeggiata per il corridoio allora hai la mazza mel hai la mel mazza adesso diventa la mel mano no è la man mazza adesso e in questa posizione ah niente non faccio niente niente tauno te lo sui allora visto che non mi esposto cambio arma visto che gli dice quella cosa e prendo la mel mazza e e provo a colpirla adesso hai la man mazza o la non mazza secondo no niente mancata la mano risulta risposta ti salta addosso tauno cia troppo poca se mi sale se 25 al momento se troppo poca allora sono 13 danni e in più dimmi la dmc c'è cmd 19 19 19 cmd quanta cazzo è preso praticamente la mano ti si fionda addosso tu porti lo scolo davanti cerchi di pararti non è abbastanza ti senti in qualche modo risucchiato e l'unica cosa che vedi è questa mano enorme che ti sta afferrando e sta ritolando akira mi muovo qua lascia stare tauno schifosa bestia flarro a merda preso preso non preso però sono più 25 ma l'ho preso con 2 si quindi puoi fare anche war style anche se il sanguinamento sui non morti non ha senso infatti non va non è immune allo è abbastanza da ucciderla descrivimelo non sono immune al blind comunque descrivimi la mano quando si è avventata su tauno io gli sono girato sul fianco l'ho presa per le due dita per il mignolo e per il pollice ho messo un piede in mezzo e ho tirato fino a che si è speccata in mezzo si probabilmente vedete questo sangue che schizza ovunque e la mano che si è spezzata proprio a metà perfetto tauno ti senti liberato dalla presa come Akira si è fondata sull'ultimo amico era una mano piuttosto amichevole una stretta molto vigorosa preferisco un'altra mano amica comunque sinceramente non questa e mi la avevo di solito prima allora osservando osservandovi attorno capite che l'odore repellente della stanza è dato da brandelle di carne essiccata bruciate all'interno del bracere inoltre Aidan avvicinandoti al tavolo noti una pergamena che puoi identificare subito con spycraft si si dai è una perga aspetta quanto sarebbe l'accenticcia siamo lì vabbè 17 è sempre meglio del 13 vediamo se non è 10 più livello dell'incanto siamo più livello dell'incanto in teoria se quindi non basta non riesci ad identificare la la pergamena è praticamente la prima volta che ti capita di non riuscire ad identificare un trentesimo da quando sei stato svezzato ragazzi scusate non mi capita mai succede a volte di non riuscire a fare quello che bisogna fare l'analizzerò dopo soprattutto in momenti di tensione e se la mano è morta andiamo beh cercate in giro nella stanza e madonna puttana individuate un compartimento segreto nascosto nella bocca del demone quello scolpito sulla affrontato al letto ok tra l'altro riusci ad identificare anche l'interruttore nascosto che l'apre spostato un po' sul muro il compartimento si apre di getto toccando l'interruttore e all'interno trovate tre pergamene e una fiala di qualche che polvere argente argente ah silversini allora fatemi spellcraft e arcane per la fiala e qui è dove tirerei tutte le mie skills se le avessi in realtà penso che per la fiala possa andare bene anche natura e non ce le comunque 20 non basta allora riesci ad identificare la fiala è una fiala di polvere d'argento semplicemente ah ok l'avrei detto anche senza tirare spellcraft fammi tre spellcraft per le pergamene ti do la possibilità di farmi tre spellcraft uno bella merda due e tre eccolo là l'avevi gettata prima però ti conto il 35 allora sono tre pergamene di cerchio magico contro il male arcane sono di quinto livello di incantatore nice me le metto tutte in tasca una la imparo l'altra la uso perfetta te le sei segnate tu sei segnato ok magari non gli spell inoltre fai 2 più 2 una volta scoperti le pergamene e ti ricordi che no in realtà non lo sai perché non è l'incantesimo quindi qual cazzo niente non sai niente bene you know nothing amatatsu proseguite per le scale yes siamo davanti io bitch 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 allora aspetta vai a sinistra tette sinistra tette sinistra tette sinistra di qua di sono ok però non qui ma qua sì ma dovevo solo trasferire fatemi una prova di percezione cecezione cecezione yeah cecezione come scendete come scendete le scale notate in fondo al corridoio no luce soffusa delle campanelle da slitta collegate ad un filo d'attivazione una specie di allarme si può scavalcare tranquillamente sì potete scavalcarlo senza problemi una volta identificato ok andate aspetta ditemi una cosa andate a muso duro o provate un approccio più stealth aspetta un attimo allora se c'è un allarme per terra molto probabilmente questa è una stanza abbastanza importante allora faccio così aspetta ok allora mi pompo una pozione di blur io? sì ansimi come una vecchia puttana aspetta diminuisco la ricezione del microfono diminuisco il ventolin in teoria adesso è un round a livello quindi la berreca è ultima no è un minuto a livello blur in teoria adesso è meglio giusto? è svanire e blur senti posso blur è sfocatura volevo dire io tipo casterei però non so se siamo in un punto in cui fa troppo rumore c'è stress ah bless c'è troppo caos c'è sì ciao ma che cazzo sto dicendo c'è tipo anche i passi che avevi in fattoria che già hanno parecchio moderatamente perché non posso castarlo silenzioso visto che non ho nel talento ne sarebbe utile tendenzialmente in ambienti di roccia così non scolpita si tende a creare un errore abbastanza forte in ogni caso se vogliamo tornare tu per farlo no senti fammo così lo metto io preparo l'azione inizio con le componenti sommatiche e col focus divino che dovrebbe essere il basso al simbolo perché è primo mi pare non c'ho scritto altro e quando entriamo nella stanza se c'è un pericolo lo completo se no sti cazzi si c'è sì 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 allora ci pompiamo tutti i blur ok perfetta quindi questo lo cancello ma tanto guarda che ne avevamo tipo due ciascuno no erano il vanish che ne avevamo due ciascuno blur e sfocatura quante ne abbiamo di? tra l'altro potreste bere anche vanish infatti è quello che farò sono cinque round quindi quello si dura round sì quello dura round quindi adesso da ora agiamo il round da quando lo bevete sì bene pronti ragazzi tre due uno guaffiamo boviamo tutti i tre le pozioni di svanire abbiamo tutti i tre guaff sì e allora allora vabbè vado prima io nel senso che ho avuto l'idea quindi boh se per voi va bene vai vai sì sì ti faccio passare ti faccio vedere la stanza un attimo secondo 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 ah prima di bere le pozioni gli ho detto il piano è uccidere il prima possibile ciò che c'è di più grosso o ciò che è più magoso sì sì effettivamente ci deve essere per forza un mago allora ecco qua ti rivelo la zona ecco che cazzo allora in questo punto il corridoio si allarga fino a diventare una piccola camera dotata di una porta che conduce a sud la porta è rinforzata con larghe fasce di acciaio e chiusa da una grossa e pesante serratura un bracere solitario toglietta luce in quest'area una una specie di orco troll verdastro si sta riscaldando su è solo su un mantello si sta scaldando le mani davanti al bracere mentre è circondato letteralmente da sei zombie umani che sembrano far la guardia porca troia allora io ho fatto due tre metri di movimento se sono invisibile posso passare attraverso i mob cioè i nemici allora se mi fai acrobazia super laci di sì ma non lo vedono eh eh cosa c'entra ma quello è che non prende attacchi di opportunità sì però ti spiego di row diciamo non si può passare in mezzo ai nemici in quattro nemici quindi io comunque ti permetto di farlo però se mi fai acrobazia cioè in questo caso qua acrobazia si intende come sei abile a scusciare i nemici se lo pagano e le firme evitano i raggi laser sì esatto una cosa del genere esatto non li urti praticamente con l'atrobazia portate quindici aspetta vediamo quanto ha lo zombie zombie sono colti di sorpresa ma non li hai urtati a quattordici dicembre lo zombie quindi voglio vedere cosa c'è qua qua allora in fondo al corridoio dopo le scale ci sono due austere statue di samurai che si guardano e protraggono la katana in avanti come a protezione del grande portone al loro lato ok allora faccio un altro passo qua davanti e passo passo il turno qui puoi sì ok perfetto anzi faccio un'azione di move mi metto shield focus con la marcia flexibility allora è passato un turno perfetto io mi sto preparando a farlo non possiamo lasciarli qua questi ci planano sul culo io mi porto con calma e come azione standard compaglio gridando cioè parlando aspetta non mi vengono le parole volevo dire recitando un sutra sacro mentre strago la katana e brandisco lo scudo e attivo il blessing del bene attivano anche la gatling per il combattimento ah sì sì chiaramente ok no ora no ora no ok no vabbè comunque provo a parlare adesso si è attivato no adesso ti sentiamo bene ok dicevo ma voi prima non avete capito un cazzo di quello che ho detto no si è ben capito ok attivo il blessing tanto non posso fare altra azione standard del blessing ok no no aspetta non è vero posso attivare anche mi verrà fervore e uso blessing con fervore poi ok non sentono niente perché fa funzione basta si 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 non sentono niente ma quindi fai altre azioni dato che lo fai con fervore o no allora mi so spostato e questo è il movimento ho fatto 6 metri poi con l'azione standard attivo il blessing della luce si del bene che è quello che mi fa fan danno maggiore sui malvagi e se sono esterni fa qualcosa in più e con fervore ho attivato blessing che colpisce tutti noi ah la blessing ok aida una domanda gli incantesimi in cui toccando i bersagli dividi il tempo fra i bersagli insomma possono essere tipo trasferiti anche dopo top round che ne so se io toccassi akira fra 5 round potrei trasferirgli un minuto di utilizzo tu dici no devono essere fatti istantaneamente quindi posso toccare tutti i bersagli che voglio in quel round però si ok se ne hai abbastanza attacchi si esatto perché in che senza attacchi non posso toccare due persone se non attacchi il consensiente dico eh no dico se è abbastanza tocchi in realtà perché attacchi allora aspetta se va tocchi per round allora aspetta un attimo se l'incantesimo dice x persone toccate vuol dire che tu nel momento in cui casti e ce l'hai tutti adiacenti tocchi quante persone ti pare esatto per quanto ti dice l'incantesimo altrimenti tipo che ne so chill touch che ti dice hai 5 cariche di questo incantesimo che ne scarichi uno ogni attacco no il primo mi prendevo il primo caso eh niente deve essere recente ok allora semplicemente divido protezione dal male 3 minuti ciascuno io e town ok dovrebbe bastare anche per i combattimenti successivi se ci sbrighiamo ora cosa fate eh nuovi turni si ok ritiriamo l'iniziativa questa tecnicamente è per i combattimenti beh si rifatela arrivata l'iniziativa intanto la tiro già per l'ora la metto per quanto per ora voi siete sempre beneficiati della sorpresa bene gli zombie hanno 1 l'iniziativa il nostro nick ah tra l'altro tu non hai identificato la creatura come no quale creatura ah l'orco di l'ogre si con la roba lo vedo tecnicamente ancora si è vero è vero è vero candy cosa fate in che senso non l'hai identificato eh non sa cos'è non sapete cos'è potete farmi conoscenze conoscenze allora ti dico subito vabbè tanti ho solo religioni e nobiltà quindi ma c'è anche storie è l'antico arciprete dell'ordine degli arcane ok all'appena lo vedo aspetta adesso controllo tanto dite di cosa fate chi? sta a te si sta a te va bene considerando che ho un visuale un po' del cavolo tiro semplicemente una bella fiaschetta dell'alchimista qui in mezzo se colpisco tipo in questa intersezione prendono tutti danno minimo si devi fare un danno diretto e fare 4 splash si si allora prendo questo e poi fa lo ah spera non fa lo splash si spagge si ok vai bene lancia quella cosa perfetto ti dai il danno ok 1d6 forse più 1 aspetta no no 1d6 basta gli altri prendono danno minimo si però quello che ha preso danni anche il prossimo turno prende danni perchè è infuocato quindi questo 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 tutti no soltanto quello che fanno dietro no questo qui dico perdono tutti uno si 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 perfetto allora tu ti riveli chiaramente la presenza dei mostri che iniziano a in realtà facciamolo per bene comunque i mostri iniziano a protendere le mani verso di te camminare con un passo stressante salve a tutti chi può vedere chi può vedere il mostro praticamente solo tutta uno noti che si gira vi scatto e si guarda in giro cazziavola è successo prendetelo si fionda sul muro dietro un cadavere apre una porta segreta e se la chiude alle spalle in realtà se la so chiude nella fretta tauna beh io brandisco no tu non sei visibile ma come no dio cristo ho lanciato il bla ma guarda che ma no allora se diventi visibile se fai una convenzione d'attacco di qualche tipo fin tanto che ti buffi sei invisibile si anche se ho parlato perché il blessing è in azione standard ah beh se sei invisibile meglio per me allora vedendo che stanno in realtà stanno venendo contro di me anche se so che ce l'hanno con con Aidan tipo mi rivelo brandendo su Shen che boh non lo so insomma c'ha il blessing del bene oltre a tutto quello che c'ha lui si risplende proprio se in fiamma le fiamme saranno tipo più chiare delle fiamme angeliche e la calo con un fendente su quello che c'ha davanti perfetto 9 tira il d6 sono due ne tiro due insieme uno è defoco o no li tiro separati ah si no tiro l'enca insieme uguale perfetto cali la lama sul non morto di fronte a te che si divide a metà e prende fuoco e faccio il passo tattico e mi porto un pochino più avanti ok Akira io ho il tizio che è uscito se ne andava tu l'ho visto che se ne andava no però ho sentito la porta no però passandolo ho visto sì passando l'hai visto quello è chiaro come l'acqua non so se attaccare perché ho una porta qua di fianco secondo me ce la possiamo fare tranquillamente contro questi alla fine è un paladino blestato contro tutti i zombie esatto nel senso voi vi occupate di quelli sì sì io da qui la vedo la porta più o meno dico quella di Akira fammi percezione percezione questa questa e questa questa qua la vista perché è entrato dentro il tipo quindi sa che c'è semplicemente si è socchiusa però la vista riesce a vedere anche la porta di Akira ok anche se non so se è la stessa stanza perché non so come è la stanza dove è entrato l'orco io comunque guardo Akira e faccio presto attenzione a quella porta che è accanto fratello potrebbe uscire un nemico l'orco è scappato non rispondo ma sto sto fermo chiaramente non è che urlo eh però lo avverto per evitare gli attacchi è sorpresa sì 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 è chiaro la ragiono così preparo l'azione aspetta allora gli zombie di fronte a te Tawna praticamente si ammassano e provano a colpirti ma non hanno possibilità alzi il tuo scudo e ti ripari dentro di esso aspetta nel frattempo lo zombie più vicino a te Akira si fionda su di te perché sono invisibile non ho attaccato allora niente scusami niente Aidan allora non c'è senso quello che ha detto perché io non lo vedo Akira beh ma sai dove è andato però non so che era vicino alla porta vabbè fa niente però l'hai avvertito insomma genericamente che potrebbe uscire dalla esatto perché magari non l'aveva vista comunque tocca a te Aidan ok io da questa posizione no senti vado avanti e provo a usare un fiatto acido ok oddio è successo paura allora allora facciamo così mica che fallisco il tiro concentrazione visto che lo tiro in mischia cioè perché devo tirare sulla difensiva no quindi voglio evitare di sprecare un ok beh in realtà non è non devi tirare concentrazione no no ok tirami un d2 ho sbagliato come lo scrivo roll un d2 ma non me lo prendi o sono scemo io aspetta porco dio prova una cosa te lo tiro io si bene come di tuo solito cerchi di lanciare un fiatto d'acido ti focalizzi entri in quella stato di trance in cui riesci a percepire la realtà alternative con la mano ne afferri una come se fosse una corda la tirai a te e la strappi il tuo fisico inizia a mutare i tuoi tratti da camici enfatizzano ancora di più senti le tue vesti strapparsi e lacerarsi tutta la tua trasformazione è praticamente Monstrous Physique 2 minchia scegli tu la forma di assuma cioè nel senso le abilità che puoi prendere si quanto mi dura? ti dura 1 minuto per livello vai vai bello ok te lo dico posso dirtelo tra un po' oh subito ora io prenderei Speak with Sharks aspetta che cazzo è Speak with Sharks cos'è che è? speak with Sharks comunque veramente ci è andato un attimo avanti perché ora che si 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 chiaro chiaro andiamo avanti si lo sappiamo a che parlare con le scuole però comunque ho preparato l'azione di knockout se il tizio esce ok allora fa uno allora aspetta 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 ti dico subito fammi una prova di riflessi noti che la porta segreta si apre giusto uno spiraglio intravedi l'orco l'olgra è quella specie di aberrazione che non identifichi bene e ti senti cadere davanti a te solo una parete buia allora tirami tirami acrobazia sono due danne se caduto in un buco c'ho una domanda tecnicamente io ho protection from evil addosso quindi ho fatto 16 non 12 riflessi perché non spendo un certo danno cioè sei malvagio ok fai facendolo a caso guarda chi ha evocato lo splenderman eh mi era ok si si hai 16 in realtà si crea si crea questa fossa sotto i tuoi piedi ma tu riesci ad aggrapparti praticamente ai lati come se come se di scatto un intervento di minuti e avesse salvato e la fossa si chiude sotto i tuoi piedi che stragoneria è mai questa mai create pit che stava bene sì che stava bene penso che rimanga Saiyan eh perché un round livello però reflex negates non so come si intende forse mi sposterò perché c'è nel senso so che chiaro che lo evita però non so se fallisce anche l'incantesimo no no rimane lì solo che tu glielo apri sotto i piedi e lui cerca di sì ok allora semplicemente c'è scritto any creature standing in the area where you're first conjura bla 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 reflex saving throw to jump to safety in the universe ok sì sì praticamente riesci a salvarti all'ultimo poi ci piede ai lati della fossa e rimani un attimo lì quasi imbarazzato poi riesci a spostarti comunque il che diavolo ria questa lo dico stregoneria a questa lo dico uguale la prima volta che vedo stincantesimo in realtà l'hai già visto contro i non morti nella nella cosa nella caverna nella parude ah sì sì mi pare che fosse hacker adesso è accaduto allora esclamò tipo ancora questa giavoleria proprio la volta l'avevo tirato io vai tauno vai tauno sì sì ho sentito quello non si è mosso da lì cioè non è uscito vabbè lì davanti c'è il buco quindi non se la possono prendere con con Aidan cioè questo di qui caderebbe nel buco probabilmente quindi io faccio il passo tattico qua e attacco questo qua ok tiro allora 13 è solo 13 preso 12 tirami 2 di 6 quello davanti alla porta giusto eh no in realtà questo di qui così almeno Aidan è protetto perfetto un altro taglio perfetto prendo il fuoco e si disintegra fino alla polvere la fiamma sacra lo ha purificato Akira faccio movimento apro la porta apri la porta allora noti tra varie scatoli e sacchi che sono stati impilati ordinatamente il il mostro quella specie di troll che si sta presentemente rintanando e sta osservando da dalla porta segreta apparentemente che dà sulla sala si gira verso di te e declinia i denti se mi vedesse giusto si gira verso di te perché anzi no fanculo non si gira verso niente lo vedi semplicemente sta lì e osserva ok mi scopri si eccolo qua faccio un altro passo ecc knockout un fresco mi muore sul knockout è come un pugno stordente solo che lo manda KO del tutto unconscious per un di 6 round cd 17 tempra aspetta devo prima colpire aspetta un attimo chiaro chiaro però mi preparavo comunque knockout allora devo fare un attack roll se colpisco prende i danni dal colpo e deve fare fortitude 10 più metà del livello del brawler più strength quindi in questo caso è 5 più 2 17 perfetto un'azione standard giusto si perché faccio un singolo attacco wam preso non entra però il knockout ok praticamente riveli la tua posizione il il mezzo troll orco sorpreso si gira verso di te incassa il colpa nello stomaco che è assai scolpito e ti ringhia contro nel frattempo tauno i non morti di fronte a te provano a colpirti nuovamente ma non riescono chiaramente inferiori al potere divino Aidan una domanda se tipo questa cosa mi garantisce tipo fly 60 piedi se c'era il mostro se ne scelgo uno tipo che ha fly 80 io prendo fly 60 non prendo nulla si prendi fly 60 ok ma visto che mi sono reso conto solo all'ultimo di come avrei potuto tipo diminuire la ricerca ho avuto solo 30 secondi per scegliere quindi mi trasformo in un mothman che forse ci sta anche visto che Desna è una alla falena è alla una farfalla o una falena non mi ricordo ok i tuoi tratti vabbè si amplificano verso quel senso però rimangono sempre quelli di un kami sono distorti che ti crescono le ali da falena ma per il resto rimane una specie di kami ok hai deciso quindi tocca a te ok per ora però faccio tipo questi qui sono vivi quanti sono vivi vedo delle x ma non so se sono quelli morti questo qui è vivo è vivo è vivo ok provo semplicemente a usare la bacchetta in questo caso perfetto si ok su quale? quello davanti a me gli crei un buco nel petto bollente che lo scioglie e lo disintegra di tutta risposta Akira il mostro di fronte a te estrae un piccone che portava sul lato e prova a picconarti sfortunatamente per lui però il tuo quanto scudo è molto resistente tauno io qui ce n'era uno o è morto? non ho capito è morto ce n'era uno ma è morto ok allora me la prendo con questo tu descrivimelo un attimo non me l'aspettavo un critico beh vedendo tutta la situazione se non morti il tizio dentro che cassa sentendo la battaglia con Akira mi inferboro ancora di più perché comunque ho visto che il tizio lancia incantesimi quindi c'è un po' però con tutta la violenza proprio anche nello spirito e nel corpo sollevo la spada apro lo scudo lateralmente come metterlo tra me e quello che sta davanti alla porta e poi dall'alto calo nuovamente questa sfiaccolata d'oro bruciante invendo con un non mi vengono mai le parole sempre con il sutra del blessing del bene insomma sono tutte preghiere da battaglia lo calo sul mosso però onestamente non ero pronto il tuo colpo sembra cadere come una colata d'oro fondente si riversa sul non morto distruggendolo sciogliendolo al suolo vedi la carne che si decompone si si fonde e cade al suolo akira ma perché cazzo non vado andate per terra quando vi colpisco il mostrato renghi è contro è finita sei sicuro mi sa che è finita per lui si tu sun allora vediamo più 21 più 20 più 22 più 19 si mi sa che è finita per lui descrivimi beh quando gli do il primo colpo di knockout che vedo che non va per terra stringo i pugni e focalizzo le energie un po' come mi avevano insegnato a fare per cercare di evocare il chi ma in modo fallimentare anche se in qualche modo quella nuova forma mentis che sto cercando di applicare per avere dei colpi più puliti più precisi senza fare un disastro a tutte le volte mi sta aiutando in questo e quindi una volta che mi sono focalizzato sul mio bersaglio tiro tre colpi precisi ma violenti in modo da inchiodarlo contro il muro ma senza strapparlo in due sono sempre sanguinamenti interni quelli che faccio con quel bore style quindi sono pugni semplici ma sono tipo alla milza al fegato e poi sotto il plesso solare quindi in realtà li distrugui con gli organi interni molli e quindi insomma sì esatto i tuoi pugni sono così motenti e violenti che lo scagliano letteralmente contro il muro non una sola goccia di sangue fuori c'era lo stomaco come era solito accadere in passato ciò non di meno però i sanguinamenti e le lacerazioni interne che gli hai provocato quasi come di riflesso gli impongono di vomitare una collata di sangue di fronte a te prima di cadere a terra e collassare con gli occhi vitrei i non morti perdono il controllo semplicemente ma continuano ad attaccare ah provano ad attaccarti tavolo quello di fronte a te non non riesce chiaramente lo tuo scudo è troppo efficace Aidan il non morto di fronte a te si lancia contro la tua nuova forma il tuo nuovo essere e tu lo respingi con una manata ti senti molto più confidente di te stesso più forte ho anche più due a forza ho solo meno uno si esatto tocca a me no? si ok passo indietro e gli scarico addosso un'altra bacchettata morirà oggi o anche domani forse no morirà oggi cazzo tu fai sempre ma no perché basta che c'è uno ti porti indietro e fai un buco nel petto a questo non morto proprio come nell'altro tau no non è ancora finito ok si ma anche l'ultimo non morto lo noto che sono diversi come atteggiamento per un attimo per un istante come se si fossero bloccati la luce rossa nei loro occhi si è spenta adesso rimangono solo due grossi buchi neri allora anche se tanto c'ho la maschera dell'elmo da samurai quindi non si vede cioè l'elmo in realtà non ce l'ho solo la maschera sorrido tipo soddisfatto perché significa che qualcosa è successo e comunque sarà stato Akira che ha ucciso il tizio e allora faccio un passetto che non lo faccio veramente cioè me giro e nel voltar mi provo tagliare a metà orizzontalmente non morto pam scaricare tutti i critici sui truppini 3.000 altro di 6 2 di 6 le scrivmelo vai beh in realtà me l'hai già descritto me l'hai già descritto sì sostanzialmente quando al massimo c'è il grido vediamo se fondi bene come il tuo compare quando cade la lama su di lui l'effetto che ottieni è praticamente come tagliare il burro passa attraverso la carne come se fosse burro e vedi che dalle sue ferite non sgorga sangue ma oro bollente ci stiamo a guadagnare un sacco di soldi se era burro colante mi ci buttavo tipo zoidberg sembra morte di grosso poi morire di ostionato rip non fa niente non muoio bene beh la battaglia si è conclusa quasi con un soffio istantaneamente siete entrati bam distrutti andrea prima di proseguire mi ho chiesto alessandro si può assistere ok vai quando faccio entrare nel canale si l'incantatore lui che aveva animato gli scheletri gli zombie quella specie di abominio mezzo troll è crollato buonasera si però zitto Ale è crollato sotto i tuoi colpi in un istante ti viene subito in mente che potrebbe essere il tanto famigerato gothi runista la mano destra di Thorberg silverscore questo coso? già dalle descrizioni della città sapevi che era un un reglietto un abominio che poteva che gli era concesso di camminare per la via di Karlsberg solo grazie all'influenza che Thorberg esercita sul consiglio dei nobili sulla legge stessa a conti fatti gli era concesso solo perché era la sua mano destra ah quindi se lo riconosco dopo che l'ho lo spaccato ed è per terra adesso questa cosa che fa è un pochino grueso rispetto a prima quindi gli mette un piede sulla spalla l'altro piede sull'altra spalla si punta per bene gli prende la testa con le due mani e tira e lo stappa come una bottiglia di coca cola plop gli strappa la testa chiunque possa osservare questa scena nota con orrore il collo che si contorce si spacca le ossa che fuoriescono da ciò che rimane della base del collo sulla spalla il sangue che sgorga fuori rossastro forse di un colorito leggermente verdognolo cosa che lo identifica come qualcosa di diverso da un semplice troll come se avesse un orretaggio di qualche tipo ma quindi cioè si vede che si sta rigenerando tipo una cosa del genere però si ferma la rigenerazione cioè nel senso è morto è morto chiaramente però la sua carne reagisce sempre allo stimolo io comunque che fino ad ora ero rimasto tipo nell'ombra mi faccio avanti con il mio nuovo corpo tipo io mi giro guardisco la spada mostro sono più alto di prima fai conto raggiungo i due metri ora sei l'Italia grande adesso no no sono l'Italia media è sempre l'Italia media quello però chiaramente è molto più imponente appare come come un angelo animalesco con le sue ali da falena la faccia detirata le scriverei magari io perché è un po' più chiaro chiaro descrivi ok considero tipo i vari tratti da Asimar che c'erano prima che mi regavano più i cami come i viticci tipo intorno alle braccia così molto più accentuati adesso la mia pelle è quasi totalmente legnosa direi poco umana gli occhi sono diventati più grandi sono la caratteristica del Mothman è avere due occhi grandi rossi i miei invece sono sì grandi però blu si vede è possibile vedere tipo le stelle attraverso attraverso di essi e poi chiaramente le ali le ali da falena che sono gigantesche diciamo che a chi conosce Desna possono ricordare il simbolo della divinità in generale comunque è un aspetto piuttosto mostruoso la prima cosa che viene in mente non è pensare a un angelo ma quanto più a un mostro quasi Spidey che se ne esci dal tuo taschino ti osserva e scoppia a ridere scusami è che sembri la parodia di qualche cavaliere di Desna non so cavaliere ti sembra un cavaliere? la parodia di un cavaliere appunto ma neanche lontanamente Spidey guardami non so cosa risvegliare tutto questo ma almeno ad aspetto mi riconosco sono un dannato mostro Spidey Sofia non la farei così tragica fin tanto che sei in controllo delle tue capacità direi che va bene ma tenta a ridere Spidey chissà che mai che potrei perderla abbiamo un vero dura qui e poi Spidey sigilla verso A1 e poi indica indica ai danno così furentemente col dito come dire guarda questo prima che questo peculiare effetto termini comunque procederei nell'altra stanza io proprio quando lei mi guarda e fa quella stanza già mi ero avviato in sostanza io non posso guardare dentro la stanza per costi determinati sport cioè non ho intenzione di vedere io invece cerco sul corpo allora il corpo è dotato di una pozione una pergamena una bacchetta una fialetta probabilmente di veleno dall'orore acidognolo e di una granata del fugitivo che avete già trovato quando l'aspetta una che? la granata del fugitivo è una specie di bomba fumogena con delle capacità magiche ah ok una pozione una pergamena una fialetta di veleno si e una granata del fugitivo oltre alla balestra pesante perfetta aspetta aspetta beh tanto non penso che vi interessi però intanto balestra pesante perfetta e un piccone pesante perfetto il piccone è interessante perché possiede delle rune nordiche sulla sua lama potremmo cioè si la la parte si chiama lama adibita si ok quello è un trofeo interessante cerco più che altro una chiave o qualcosa di interessante da quel punto di vista tipo di cerco le tasche eccetera eccetera non vi sono chiave questo è tutto quello che ha letteralmente puoi far identificare da idan ciò che avevi trovato non c'è tempo se no gli finisce l'incantesimo infatti quindi puoi fare una prova di percezione volendo per identificare la stanza molto velocemente ok allora perception anche tu idan se passi lì in ogni caso a meno che tu non ti fiondi direttamente sulle scale non so si allora lo faccio anche io rapidamente perception all'interno della stanza vi sono semplicemente tra i vari scaffali e i vari i vari scatoli e sacchi vi sono trovate delle carcasse di vari animali selvaggi e persino arti di umanoidi in varie strati di decomposizione in un armadetto di legno sotto gli scaffali per il resto un una come si dice un passaggio veloce della stanza rivela che i barilotti sono sono ripieni di alcol di qualche tipo skip non c'è tempo per questo andiamo andate avanti di qua ok prima avevi detto che qua c'erano due statue le samurai no? si posso fare conoscenza a nobiltà per sapere se sono stato che fanno riferimenti particolari o religioni sono piuttosto generiche che non hanno per niente ornamenti specifici ok non c'è nessuna usanza su samurai che proteggono una porta particolare no ok allora faccio cautamente un passo avanti in compenso però allora in compenso chi ha chi ha conoscenza in ingegneria mi pare basta che mi dici cosa tirare arcana arcana sono chiaramente delle cariatri non si intende come un uomo molto vecchio ma sono dei costrutti delle statue pronte ad animarsi ad ogni momento puoi farmi tre domande bene ci sono tipo azioni specifiche a cui si animano o c'è bisogno il semplice passaggio potrebbero essere attivate da appunto il passaggio magari per evitare che si attivino e si riversino contro hanno un imprinting per una certa parola chiave un certo oggetto insomma ci sono tantissimi modi per evitare che si attivino però non c'è niente di specifico quindi non puoi saperlo in questo caso in particolare town è fermo sta camminando no no sto fermo sto fermo facciamo un passo una prova di intelligenza facciamo intelligenza aspetta aspetta prima volevo fare le altre domande appunto eventuali le solite altre due sono resistenze e capacità speciali allora resistenze sai che sono sono particolarmente resistenti in generale essendo costrutti quindi le armi non riescono a scalfirle completamente e oltre a questo hanno una capacità letale di frantumare armi a prescindere della loro potenza magica che siano perfetti che siano leggendarie armi narrate leggende queste cariatidi riescono a danneggiare l'arma con il solo contatto l'unica che potrebbe essere immune probabilmente è su isham perché è più di un'arma leggendaria è è l'arma leggendaria e per questo tipo di armi sapete che ci sono modi specifici per distruggerla altrimenti sono indistruttibili ok nient'altro allora sono immuni alla magia sono immuni alla magia sostanzialmente tranne trasmutare roccia in fango che gli fa più danno o trasmutare fango in roccia che gli cura praticamente le rigenera si ripristiano allo stato precedente e pietra in carne che nega la loro resistenza naturale per un lasso di tempo limitato non più immagino gli incantesimi che hanno effetto su oggetti no solo questi solo questi quattro va bene ok poi adesso tirare intelligenza nel forse un po' volevo dire ragazzi potrebbero rispondere a un oggetto forse il tirare intelligenza sì sì intanto sto tirando perché era correlato ripensi a ciò che avete vissuto fino adesso ciò che avete trovato sui cadaveri nelle varie stanze l'unico oggetto ricorrente è la statuetta del corvo di Giada ma ne abbiamo sei tipo no l'avete lasciato a terra mi pare l'ho presa ah già ci avevo chiesto no in realtà poi avevamo detto vi ho chiesto specificamente se volevate prenderlo oppure non vi ho detto di lasciarlo a terra no perché poi abbiamo fatto torre quel ragionamento abbiamo detto però se sono piccole e non danno fastidio una si può anche prendere no ce le ho ce le ho in inventario le ho messe senza parentesi quindi ce le ho ah ok infatti perfetto era proprio in quel momento che abbiamo detto le cose che lasciamo per terra le mettiamo quindi vi consiglio di distribuirle ok diamone uno anche a Spivey che non si sa mai questo si quella porta è bloccata si spostati dai su no scherzo scusate ma ci avevamo fretta di non sprechare l'incantesimo debuff no dai andiamo andiamo era solo per capire in una statuetta quindi mi fido di Aidan e provo faccio un passo in più perfetto faccio un passo in più e le statue rimangono immobili ferme austere con la loro katana sporta in avanti mi giro guarda un attimo Aidan e faccio con la testa in cerno d'assenso molto molto soddisfatto e compiaciuto da più vicino noti che sotto grossi elmi le statue indossano maschere demoniache dotate di zanne ringhianti guarda dall'altra parte di questa porta si ha tipo individuazione dell'allineamento chiaramente del mare allora dalla tua esperienza immagini che il portonese troppo spesso per essere superato ad essere veramente imponente cioè non passano a mia vista esatto scusate un attimo mi sarà un attimo un pala taragora devono essere delle porte estremamente verte i miei occhi non vedono attraverso sembrano aperte non so c'è una maniglia come funziona se spingono e basta si si spingono e basta in realtà sono porte incise con motivi tiani i mincaiani ricordano forse una foresta con una pagoda nascosti in mezzo a degli alberi di ciliegie in fiore tutti questi basso rilievi incisi sulla porta in qualche modo ti provocano sia un sentimento positivo voglio dire di pace interiore che di agonia come se ci fosse qualcosa che non va con loro come se fosse fossero corrotti internamente come se fosse tutta un'illusione cioè è un effetto no è ciò che ti suscita in realtà semplicemente il basso di lievo è un effetto tipo interpretativo dell'immagine si esatto guardo acere faccio credo che basterà spingerle ok allora faccio così preparo una dose di di veleno della lama della lama morta della lama di morte e me lo tengo nella mano sinistra insieme al guanto scudo dato che posso reggere oggetti anche se uso lo scudo ok poi guardo loro e gli dico adesso ci rientriamo di nuovo invisibili entriamo e ciò che ci sta lì dentro lo uccidiamo sperando che sia una cosa sola e se è una cosa se ci sono solo di più uccidiamo la cosa o che lancia incantesimi o che evidentemente è un incantatore oppure ciò che sembra essere il più grosso dei tutti annovisco ok bevo il vanish e vado a pisciare prima di tutto così almeno non interrompiamo niente ma il vanish c'è per tutti o c'è solo ce ne sono altre tre però io ho invisibilità quindi chiusa lei quella torno subito quindi non fate niente io vado a pisciare allora sì via facciamo una pausa brevemente mentre lei entra buonasera eh sì in effetti adesso che siamo a pausa esatto però la musica la tolgo sì chissà si sta registrando ancora che livello siete? ah beh tanto cioè taglierà se non lo so di solito non lo fa dunque al 5 ah così no al 6 al 6 penso al più alto no siamo al livello giusto e chi è che state combattendo siete già arrivati nel tiang xiao sta zitto spoilerare il nome vabbè tanto quella era una cosa ovvia che c'è dovevo arrivo no siamo ancora sulla fase dei kalsgaard stiamo ah ok gruppe desto cazzo non mi ricordo che classi avete fatto stavolta world priest io all'inizio ero paladino ma ho fatto tipo un accordo segreto che non è segreto col maestro poi c'è mago e brawler devo dire che Akira sta molto bene come sottofondo per town eh dicevo Akira sta molto bene come background per town comunque ci sono si ma manca Akira porco dio non so se manca anche Jimmy porco dio senti ma quindi vanish non va via se spingiamo la porta dopo no allora mi sa che devo anche io admin di che gruppo Andrea Pathfinder GTR Italia capito ho capito il lecchino di Andrea che se fa le campagne con l'admin di gruppi questo può far il prepotente nei commenti e non mi dice niente perché è il master più o meno dov'è quel con l'inghione di Gianmarie ti taglio la gola ti faccio così non ci sono la cuoca e il suo marito stavolta nella carovana no no tranquillo tranquillo ho raccimolato veramente in botto le gente non ti preoccupare c'avemo una carovana strapiena di gente buff ma gente almeno che ha senso di esistere anche la cuoca e il marito c'avano senso di esistere no era una merda cosa best pg ever mi ricordo la disquisizione tipo che era finita le votazioni che io avevo già il coso l'androide ah si e che votazione c'era non mi ricordo era qualcosa che era inerente all'orco no quello tuo avevi il coso la rincarnazione che merda era quella campagna la rincarnazione di quel mago che era diventato un monaco praticamente c'era un demon eh l'android c'era un mercato no l'android è il mago un altro mago sorcerer forse oh non me la ricordo per nulla quella campagna si era praticamente il primo attempt a giocare a Jade Ragnar qualche anno fa è stata un po' la merda c'era Terry ok adesso però mutate il microfono e ci siamo ci sei già Maria? si avrei detto di stare lì vabbè comunque ti uccido vi siete lanciati avete bevuto le pozioni e siete svaniti nel nulla ah 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 una cosa che non avevo considerato anche spai di di vederla vedo la mia tanto io ho detto che uso invisibilità ah ok perfetto aprite il portone che cigola per terra stride col pavimento è molto pesante all'interno questo all'interno un attimo l'interno di questa camera è stato trasformato in una meraviglia architettonica a più livelli la camera è divisa in due sottlivelli quello superiore è situato a circa 6 metri al di sopra di quello inferiore ed è inclinato di 45 gradi il punto più in alto del soffitto è costituito dall'apice di una figuratamente una piramide che misura 18 metri dal terreno insomma va su verso l'alto in maniera piramidale l'orientamento diagonale del sottilevello superiore forma 4 cornicioni alti 6 metri sulle pareti dell'inferiore una fontana sgorga dal cornicione più a sud generando uno scroscio che si tuffa in una vasta ornamentale sul pavimento in cui nuotano alcune carpecoili di tonalità rossorubino vari paraventi neri e laccati sono stati disposti in vari punti della stanza creando un vero e proprio labirinto di pannelli l'unica cosa che percepite oltre al rumore scrosciante dell'acqua che si tuffa sulla fontana ai guizzi delle carpe che saltuariamente saltano il rumore la voce il grido di piacere di una donna lasciva dietro uno dei paraventi vado in che senso ne ho detto vado non vengo ok allora metto aspetta metto i paraventi faccio vedere come sono messi così almeno metti anche i paraventi alla donnina perché secondo me che sta più agli schiaffi è in questa direzione sì cioè non si passa dai paraventi beh i paraventi sono li puoi buttare giù volendo però in realtà puoi squizzare attraverso ok senti faccio presto un attimo maggiore attenzione ai dintorni cioè percezione ok allora vabbè volevo adesso c'è c'è innanzitutto i paraventi meccanicamente si possono tirare giù con un'azione di movimento per farvi sapere per il resto non percepisci niente particolare Tauno io con la magia nemmeno con la magia ah a proposito tra l'altro Tauno all'interno della stanza riesce a percepire chiaramente l'aura malvagia che si irradia da dove proviene quel quel grido di piacere e non puoi sapere se è la tipa no non puoi sapere se è la tipa chiaramente però viene da quella direzione ed è ed è molto potente è forte è un'aura tra le più potente che tu abbia mai visto finora ed è contorta fino al midollo in un certo senso simile a quella di Kikono il Tango Yamabushi ma allo stesso tempo molto più potente e corrotta divengono i brividi sulla spina dorsale tu Akira hai detto che vai vado ok dove esattamente dove c'è l'urlo della tipa ok passi attraverso i paramenti da questa parte vi è vi è un letto nascosto tra print e dietro appunto i paramenti sopra di esso un uomo straiato una donna seduta in posizione retta sopra di lui entrambi nudi coperti leggermente da una coperta la donna non riesce a distinguerla bene ma ha i capelli biondi che le scendono sulle spalle aggraziate dei tatuaggi riempiono le scapole rune nordiche probabilmente le riconosco riconosco uno o l'altro no l'unica perché la donna è girata le spalle non si riconosce la faccio un altro passo beh ti sposti ok provi a scorderle il viso dalle descrizioni potrebbe benissimo essere Thorborg Silverscore è una donna bionda tatuata molto attraente ok e l'altro tizio che c'è sotto nessuno che ti venga in mente vedi che i pantaloni sono tirati giù fino alle caviglie e ai polsi porta dei bracciali sulla testa una specie di bandana nera probabilmente un sottoposto un ninja delle ombre ghiacciate ok sti cazzi ok allora dopo che ho usato il movimento aspetto il turno nuovo intanto aspetto gli altri dicevo posso squisare anche io oppure io ho proprio impedimenti per tutta la roba che c'ho addosso e cadrebbe anche l'anima di Cristo puoi farlo anche tu tra l'altro puoi spostare anche leggermente il paravento senza fare umore no vabbè volevo evitare spostarlo perché sai magari se ne rende conto se posso squisare senza spostare niente squiso e poi mi frega il dend sull'armatura non è vero non succederebbe c'è troppo male però c'è il dend adesso ok lascia passare il turno se tutti hanno finito domanda ma non puoi star lì non puoi star lì sono il tornicione si sono il final hai riuscito a volare si se vuole volare si però gli spiegavo che sono i cornecioni sono il microfono spento se posso volare lo faccio c'è c'è spazio fisico per atterrare si 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 puoi farla tranquillamente ok nuovi turni domanda prima dei nuovi turni tirata anche iniziativa ok aggiungi ti volevo di quanto tempo è passato dal combattimento del primo un minuto due c'è due minuti neanche perché non abbiamo fatto nessuna prova che faccia minuti siamo passati quattro round sì cinque al massimo si è stato è stato molto rapido mi vuoi c'è l'entrata in scena certo no 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 dicevo d'acchiere tu fai una cosa prima però beh comunque tu l'hai visto che ha messo il pugnale l'ha avvelenato insomma è entrato col pugnale in mano quindi immagini che voglia pugnalarla prima di prenderla a pugni normalmente madonna sempre col microfono spento ricordiamo che il piano è appunto entriamo e ammazziamo dunque cosa ha fatto sta a me no a dai io che cos'è quella roba il ninja che so so con lei ok no io mantengo la posizione immagino che siano gli altri a voler fare l'attacco che ti parlavano possiamo dire appunto il ritardo dopo un eventuale attacco si dunque dunque lei non agisce giusto lei sta lì a scopare se te lo devo dire è un'azione di round completo si è una cosa orribile stai lì a guardare stai lì a guardare no io io in realtà non è che stai lì a guardare diciamo che inizio a caricare il mio odio verso la creatura io faccio un'azione preparata considerando che come facevo notare anche prima Akira lui si era tipo preparato col pugnale prima di diventare defavanish io aspetto che appare Akira e poi smito la tipo ok ok io faccio questo visto che ho due attacchi cioè posso fare flarre anche con le con le armi close lo faccio e flarro con il pugnale e cosa faccio allora visto che non ho il visto che non ho il il dragon style cioè entro comunque in dragon style ma non lo uso perché posso farlo soltanto con gli armi di strike faccio il primo attacco aspettate che modo devo capire che cazzo devo fare sono meno due per il power attack meno due per il flurry più uno no perché non è focus weapon quindi quindi sono milito dodici meno quattro otto cos'è l'attacco? tiro per colpire tiro per colpire ok tiro per colpire del primo attacco non dovevi farlo a flurry? si però dimmi se è entrato no non è entrato quindi però si fa l'attacco completo oppure l'attacco completo e poi dopo c'è sempre flat footed o gli altri no non è colpito no cioè è mai colpita? no scusa ma non è nuda? si è nuda e non è senza la destrezza perché in teoria fa paura sta tizia c'è l'armatura naturale perché è mica ammuffata ah già è vero che poi non lo sappiamo è già si porco diavolo quant'è tosta cosiddetto Andy che non lo sappiamo non lo sappiamo che è camuffata però è ovvio ah si in quel senso come no non era venuto fuori che c'era era un ogre si ma ce l'ha ce lo sappiamo allora ragazzi si è una supposizione non lo sapete per certo comunque sta di fatto che tu Akira cerchi di pugnalarla e lei istantaneamente si ritrae dalla posizione in cui si trovava come se uno spasmo di piacere la facesse come si dice come se fosse imparare le convulsioni ma troppo calcolate perché il tuo pugnale passa proprio vicino alla schiena si gira verso di te con un sorriso un sorriso amabile è questo il modo di presentarsi a casa altrui e poi scompare scompare in che senso cioè scompare ma Akira è comparso eh si e allora io c'ho l'azione preparata dello smite prima che scompare si è vero falla no non è presa come dicevo tu per rafforzare anche il modo innaturale in cui esiste questa donna tu t'ha uno dal dietro cerchi di affondare la spada nella schiena e prima che tu possa farlo si smaterializza sotto i tuoi occhi scomparendo il ninja rimane quasi imbambolato per un istante fissandovi nudo da sotto le coperte tocca a me si ok io posso capire con spellcraft cosa ha fatto spellcraft si puoi farlo si che lo so cosa ha fatto chiaramente è un qualche tipo di incantesimo di invisibilità forse addirittura un incantesimo ma con la naturalezza in cui l'ha fatto una capacità speciale probabilmente qualcosa di innato dell'oni sapere che è ancora lì per spararle addosso glitter e dust beh non puoi sapere che sei ancora lì in realtà non ne hai la certezza hai ragione ma lei era il suo turno vero quindi non è che faceva parte anche del turno di sorpresa ok esatto se comunque si va bene va bene eeeh wow niente allora preparo un'azione nel caso riappaia e lanci un incantesimo la provo a colpire con la bacchetta dalla mia posizione tanto sono ancora invisibile ok e ninja si alza di scatto dalla sua posizione avete un attacco d'opportunità eh devo tirare will per non farlo bene superato si ma non lo vuoi fare tu tau che cosa scusate l'attacco d'opportunità il ninja si si rialza di scatto dall'etta eeeh no in realtà no voglio tenermi pronto per quando appare la tizia al caso sono siamo ancora tutti invisibili io no eh anche tau beh quindi conta l'intenzione dell'attacco l'intenzione ok il ninja si finisce sotto le vostre occhi ma io la so quella cosa che ha detto Akira c'è leggi perché dovrei le hai detta si è la stessa solution che ti informa dei suoi dei suoi dei suoi si è chiaro dei suoi poteri allora se tocca a me si tocca a me faccio si invisibility cioè proprio allora recito un sutra che riguarda la il disvelamento insomma dei trucchi magici si mettiamo in chiaro una cosa non sei tu a vedere le visibilità sui scena glielo chiedo invocando il potere del shizu no si si ma dicevo è lei che lo vede lei cioè tu non vedi lei vede lo sappiamo tutti questo potere no conosciamo si è lei che lo casta su town target personal più si però le armi quindi non può ma non c'è il condividere incantesimi quando sei il possessore dell'armo dell'artefatto no allora è inutile che gli l'hanno messo se invisibility cioè allora è una e beh ma lei mi dice dove la tipa sparo glitter dust eh quello è chiaro che è utile però dico ti può aiutare un sacco ma non vedi tutto direttamente illumina il bersaglio per l'attacco aereo esatto beh tutta uno solennemente chiede a sui scena di evocare il bene per schierirti la mente la vista e lei quasi l'impulso ti muove il braccio senti una forza incredibile che ti punta verso la posizione in cui si trova il mostro muovo la spada in quella direzione da questa parte beh la punto con la spada cioè appunto seguo le indicazioni che mi dà su Isshan e punto la direzione e subito dopo indica di fronte a te ok allora dico deve essere là quella strozza quel mostro no non la fa scusami fa schifo proprio quel quell'essere immondo è da quella parte mentre da questa parte dovrebbe esserci il coito interrotto mentre tiro giù un fendetto dall'alto provando a colpire che cos'è successo io sono dove voi dagli occhi si vede che lui è tipo fervorato e confuso perché non ha mai visto il male in quel modo forte quindi in realtà si sta cagando sotto però non si può cagare sotto quindi è confuso e ma chi dai like what vai attaccalo tu hai attaccato attacca il coito interrotto sai in che quadretto si trova però è consiglio il metto ti tiro il concealment ah lo tiri tu ok dimmi sopra o sotto ma lui stava sotto prima eh infatti sopra è la stessa cosa sotto preso ah è malvagio si allora quanto è in totale 7 9 16 ok senti che colpisci la carne ma nessun tonfo a terra evidentemente non è ancora schiattato non torna visibile se subisce un attacco no no solo se attacca lui però c'è lo schizzo di sangue per terra si vedi un un breve schizzo di sangue cioè non è penetrato a fondo con la katana però sufficientemente per vedere che si trova effettivamente lì lì akira ho visto l'esatta locazione dove puntava su ichen l'esatta la motimino da questa parte verso l'alto probabilmente sul cornicione ma che coglioni il cornicione è 6 metri da terra ok fuck it lascio cadere il pugnale vaffanculo volevo fare una roba ma non l'ho potuta fare va a cagare lo odio faccio così mi muovo qua ok guardo sopra il cornicione e faccio il dragon jump perfetto dunque fammi l'attacco tirami anche un d4 per vedere dove atterri esattamente ok perfetta allora tu salti sul cornicione l'energia la solita energia bluastra violacea che ti ricopre ti dà una forza incredibile così potente da lasciarti scattare fino verso l'alto atterri piombi sulla superficie crei una crepa nel cornicione che quasi si stacca ma riesci a resistere per un soffio eppure però sembra che tu non abbia colpito niente sembra che il breve sisma creato non abbia nemmeno spodestato le radici del demone così ancorato al cornicione o forse semplicemente non si trova lì ok allora Akira Akira si fammi un un volontà è un attacco no cioè si infatti nel momento in cui cadi sotto il suo controllo scusate un attimo lei torna visibile a incantesimo finito o mentre comincia a castare penso a incantesimo finito cioè nel senso meccanicamente lei può lanciare il suo incantesimo perché era invisibile poi la vedi babini allora torborg torna visibile una donna nuda sul cornicione opposto a quello a cui sei appena atterrato Akira la osservi per un attimo quasi stupito e poi la tua mente inizia a contorcersi internamente la osservi di nuovo la voce nella tua testa il demone interiore ti sussurra la vuoi lo so che la vuoi vai là e prenditela ora perché è tua è la tua padrona mostro osservala bene tu devi rispondere solo a lei in un istante ti senti come attratto fatalmente da questa donna fatale è la tua padrona no in realtà non è la dominazione flufficamente la tua padrona ma in senso di mi stress è shard monster ah quindi ah vabbè ok quindi più o meno sto in controllo si per modo di dire ok bene non la posso attaccare stavo cercando sotto semplicemente non la posso attaccare vabbè meglio ho pronto a scappare dalla finestra cioè per farti capire ma scusa perché adesso ishen ha puntato qua perché prima era lì c'era solo che tu non l'hai beccata Aida ok aspetta un attimo la donna inizia a parlare eloquentemente verso di voi poveri stolti ingrati che non siete altro non capite io ho il controllo delle umberghecciate dei corrieri di prima e attraverso loro e alza le mani al cielo il controllo di tutta Kalsgard perfino i re l'innorm devono piegarsi alla mia volontà nessuno amatatsu reclamerà il trono di Jara tutti i re l'innorm interverranno sotto di me per fermarvi la vostra ora è giunta inevitabile è qui di fronte a voi vai Aidan ok uso hast su tutti quanti hast du du hast du hast mi du hast mi schaffer vai perfetto ninja tauno ci ha impreparato mi sa poco mi sa meno 2 quindi 20 aspetta allora sarebbe 23 però c'ho protezione dal male quindi 25 comunque sei malvagio ok non eri 25 prima scusa 25 di base più 2 di protezione dal male fa 27 meno 2 alle strette sempre contro il male se no 23 dietro di te il paravento crolla e ti senti attaccare alle spalle purtroppo però il pugnale del ninja appena rivelato non riesce a penetrare la tua matura davanti a te contemporaneamente il ninja cala la sua la sua spada su di te rivelandosi ai tuoi lati sei circondato continuano ad attaccarti non riesci a parlare tutti i colpi so combi ad uno di essi sono un cazzo sono tre danni so combi per molti di dire sta a me adesso si lo guardo te li rivelo ah sono due ne uno aspetta no sono quattro cosa e poi siamo noi i guardoni allora qual è quello che mi ha colpito quello che ti ha colpito è questo qua beh faccio TANA e e brandisco la lama su de lui Tano stasera ma aspetta le frasi strane cringe cosa? ho fatto 15 su char monster perché ho più 5 sul ts perché stanno non è comunque non è sufficiente ci hai sperato eh si allora 10 ah niente non riesci a prenderlo allora non riesci a prenderlo Akira la la donna Thorborg ti osserva per te in questo momento è la creatura più bella dell'universo figlio mio stai lì buono tu non mi puoi ordinare niente posso solo cercare di non ucciderti perché non posso ucciderti ma posso salvare i miei fratelli e salto giù fermo non mi può dare ordini si ma tra lei comunque lo fa lo stesso nel senso fino a che non passa un ts per togliere questo effetto non l'attaccherò direttamente a meno che non minaccio direttamente Tano o cosa si dispel salti salti giù ad attaccare ok 17 preso 25 praticamente salti sul ninja lo spiaccica al suolo con i piedi dove cazzo allora deletto delettista Thorborg torna nuovamente invisibile scompare di fronte ai vostri occhi allora vediamo un attimo 3 minuti ok Aidan CA sono invisibile devo dirtela comunque no mi lascolto che era invisibile da uno CA 25 25 preso preso 27 contro il male 27 preso che è stare fluffata del cazzo no non rifluffata semplicemente è più esitazionale perché il master non aveva ricordato la protezione bonus morale aspetta ah non ti ho preso ci ha rubato da uno sono 34 danni che cosa praticamente tu sei intento a combattere contro contro i fari ninja che ti stanno opprimendo sui lati quando sul tuo petto vengono scagliate due frecce decimissime non penetrano totalmente l'armatura c'è una cosa che ti salva il tuo oeroi che prende leggermente fuoco al contatto con le frecce ti senti quasi spalzato indietro dal colpo di fronte a te sul cornicione un essere rosso enorme si rivela e ride e ti ride in faccia stolti pensavate veramente di avere qualche possibilità contro okimandatsu delle cinque tempeste venirete tutti uno dopo l'altro ornerò la mia sala con le vostre ossa i vostri teschi no è sempre lei Akira non funziona così ma di questi ninja qui qual è quello nudo? quello davanti a Tauna ok che tra l'altro tra l'altro no agito io no tocca a te infatti ok volo fin qui tiro un diventi delle meraviglie perfetto e uso una pergamena di cerchio magico con quel 19 in pratica prende tutta la stanza o quasi ok raggio 3 metri quindi disegnati Laura aspetta forse posso farlo anch'io però si muove con me io dopo potrei muovermi quindi dovresti farla no ce l'hai fissata su di te il cerchio sei tu che lo emani wow hai ragione allora lo faccio io aspetta nel frattempo i ninja ma aspetta ma cosa ma tu stai volando? si ok nel frattempo i ninja provo a colperti nuovamente da uno ma i loro colpi non vanno a segno riesci a pararli tutti col tuo scudo e la tua armatura comunque fa fa molto tocca a te la verità è che poca sta swish no? mi occupano le mie azioni o sono cose a parte? sono cose a parte ok voglio walking there la carico in aria la puttana lei sta sopra no? aspetta hard work si lei sta 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 in alto sul cornicione se io tipo puntando swish verso la donna il mostro lì sta ad essere orribile dico lo dico internamente tanto lui dovrebbe poter leggere i pensieri no questo non lo so se lo può fare o meno vabbè lo dico ad alta voce permettimi di raggiungerla ero in due una voce imponente penetrante tagliente ti risponde come desiderate principe improvvisamente ti senti sollevato verso l'alto tu di un impito la carichi e stai praticamente volando verso di lei descrivimi come l'attacchi si arriva mi sei un attimo impallato tutto ricordi che hai i case buono se dopo la carica posso fare un attacco aggiuntivo no però il più due senti io lo so che è una pacchionata mi direte tutti però come su la foresta dei pugnali volanti cioè io proprio quando sento che l'effetto della mia richiesta inizia a verificarsi appoggio la punta del piede d'appoggio vabbè la punta del piede con cui do la carica l'appoggio tipo sul qui davanti a me come se stessi camminando sul sul tizio come cazzo sui ninja e mi do uno slancio ok cammino proprio corro in aria proprio come sulla foresta dei pugnali volanti e mi portendo in avanti cercando dei fan è tipo nozuki cioè i colpi quelli di punta sulla gola anche se in realtà vado a dettaglio però c'è proprio la scena è proprio tipo foresta dei pugnali volanti tanto c'è già lo smite già gliel'ho lanciato smite quindi rimane attivo e grido che hai fammi l'attacca manca il più due del preso col più due preso senza no si si manca quello della carica ok quindi otto tirami i due di sei conta con un esterno è un esterno si faccio molti più danni agli esterni sia con l'arma sacra del del bless che col coso aspettami ti dico quanti anche intanto tiro gli due di sei extra allora praticamente lo smite gli fa due punti di danno in più per ogni livello di world priest quindi sono dodici danni extra ok e e il blessing no invece non lo fa non lo fa bene più quell'altro quindi sono otto più sette più dodici si quindi sono ventisette stai parlando la gatling ventisette perfetto ok akira eh flaro i ninja che ci sono sotto non posso fare altro perfetto tanto vanno tolti da lì comunque preso preso no il secondo non l'hai preso e anche il terzo ne stendi uno con un colpo preciso nel frattempo nel frattempo tauno il mostro di fronte a te torna nuovamente ad essere invisibile ma sta castando come lo fa cioè è una sua abilità a volontà allora ma spivey cioè adesso arriva col turno di idan la faccio gira ma se ne è persi due dato perché stavo dormendo strunza dorme sempre allora adesso arriva non preoccupate porco dio cosa cazzo fa sta tipa vi giuro tauno tauno quanti ACPT sono rimasti esattamente morto no quanti ACPT sono rimasti dai 31 sono 41 danni more like meno di oggi spero che tu abbia costituzione alta adesso spivey arriva salvare adesso arriva spivey due danni curati arrivano gli fluttuanti nari o cado scendi a terra si sostanzialmente i fatti magici sono ancora attivi si anche perché sei dentro il cerchio in un istante la tipa scompare e senti dietro di te sulla tua schiena altre due frecce che ti penetrano l'armatura questa volta le frecce scavolano in profondità nella carne senti inizialmente un leggero freddo sotto dalla lama e poi un bruciore accecante vedi tutto bianco prima di crollare forme indistinte balenone nella tua mente e poi il buio a questo punto spivey si getta su di te e ti cura ti cura sei danni tauno tauno resisti accidenti non riesco da sola non riesco a curarlo non si sveglia più Aydan dammi la mano tocca a te Aydan come si 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 facciamo così allora naiseroni bene uso allora il dispel magic su su akira no lo passo automaticamente con quel 18 la prova per dispellarlo e rimango invisibile ok il ninja giunta risposta però la colpire spire e la colpisce tra l'altro ha pure fatto critico 2 di 4 più 4 no porco dio ho sbagliato 4 di 4 ok spivey prende 7 danni quest'altro ninja è morto quindi niente quest'altro ninja quello sotto sotto Aydan prova a colpire te akira quanto hai di cia? troppo 22 23 ok non ti prende non ti prende da uno tu sei stiamuto quindi niente grazie akira io rifletto si faccio un passo akira dove? ah beh ok beh perfetto preso col primo ucciso preso col secondo ucciso colpi brevi ma decisi singoli colpi in pancia i ninja e li stendi per terra sei a tuo modo furioso vorresti prendere quelloni e diraniarlo ma sai che non riesci nel tuo cuore non riesci a fare una cosa del genere perché no non riesci l'ho rispellato l'ho rispellato l'ho rispellato eh già ah scusami ero perso questa parte allora niente semplicemente fino a un momento fa non riuscivi qualcosa ti bloccava come se fosse un freno indipizzore qualcosa che tu però non vuoi più sperimentare tutta la tua vita hai provato quasi amore per una creatura così impia una creatura malvagia contorta ti sei sentito privato stuprato nella mente stai impazzando sei praticamente su tutte le furie fai prima spyby ah no ma tocca a lei tocca la tipa prima tocca a lei allora mi fate riflessi di quanti anch'io che volo sì no aspetta è un sì è un crono quindi anche tu che voli dipende quanto è alta la stanza beh no dipende quanto sei alto tu quanto sei alto eh quanto è alta la stanza la stanza è alta 8 metri o anche di più no 18 metri nel punto massimo scusa un attimo ma il cerchio in realtà è una sfera quindi intorno a me sì allora devo stare basso tipo un metro e mezzo se è l'altezza quindi lo prendo anch'io ossia mi interesse fatemi riflessi 14 gli altri town è svenuto quindi niente abbiamo su due più più due i ts forse però sono di will controllo no più due resistenza bonus io ho già un più uno quindi per me un 15 comunque devi fare riflessio ah no ho tirato will sono autistico si è version case quindi 15 17 17 niente allora per livello di incantatore io 14 in tutorial di nuovo allora vi ricordo una cosa premettiamo il sigilo degli amatatsu una volta al mese può usare la resurrezione si si tau no mi dispiace ma sei morto sono 33 danni a tutti nell'area ma che danni fa sta cosa praticamente da freddo da freddo praticamente cosa succede la tipa sul cornicione riappare vi osserva con un chigno malefico punta le mani verso voi e un cono di freddo neve ghiaccio si riversa ad alta velocità verso di voi prima che possiate ripararvi dietro dietro un paravente di qualcosa venite investiti in pieno la vostra pelle superficiale si ghiaccia si crea anche le miste allottiti sulla vostra carne e vi sentite vi sentite congelati dall'interno nelle ossa nell'anima Spivey ha fatto il TS si fortunatamente Aitan ok fai prima giro lei se deve fare qualcosa si Spivey si ce l'hai perso di te il lacre da uno non respira più penseremo dopo a lui è il momento di agire adesso lei si asciuga le lacrime sugli occhi e venite curati prende vola in giro su di voi venite curati di nove tutti e due no vabbè vado a 36 ok io invece uso glitter tasto adesso glitter da glitter da su di lei ok riflesse no la stai riprendo automaticamente comunque è volontà per il per l'accecamento volontà superata ok quindi cosa gli fa e ora brilla per 6 round non può diventare più invisibile ok perfetto lei ti grigna i denti vi osservo maledetti morirete morirete si morirete proprio come ha fatto il nostro compagno e tu farfallino viene a giocare con me da uno a tutti gli attaghi che hai ricevuto hai tirato il 20% per sfocatura no però no non l'ha fatto vabbè il raggio chiaramente no però tutte le frecce eh però io ragazzi non me la ricordavo no ma infatti non è colpa tua allora aspetta guarda se ti può consolare ho tirato adesso le percentuali e sono tutte sopra infatti lui aveva scelto sopra cosa niente dai in diamanti si hai tanto egito si ho tirato l'ho resa visibile si allora tocca a me tocca a te si allora come azione di movimento prendo la spada dal cadavere di dal cadavere di 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 tauno intanto sono adiacente prendo swishen la impugno ok portami da lei e il casto di nuovo airwalk e poi la lascio cadere cosa la puoi tenere anche in mano no perché non posso flarrare gran rispetto per la spada si guarda in questo momento è furioso quindi non ha rispetto per niente proprio letteralmente l'ha usata come un oggetto qualsiasi ah che era appena trasportato istantaneamente davanti all'odi così imponente il top della tua stazza eppure rossa dentata come te le sue fauci che fuoriescono dalla bocca i suoi capelli corvini che flusciano nell'area della stanza le osservi nel frattempo swishen cade a terra e si pianta nel pavimento una spada normale sarebbe semplicemente imbalzata ok beh c'ho airwalk attivo adesso si 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 ma non può anche attaccare cioè no no perché ha preso la spada ah ok giusto kibandatsu ti osserva e te rida in faccia lascia cadere l'arco e impugna un grosso tetsuo chiodato ma era nuda fino a un secondo fa eh l'alter self anzi no peggio quanto è ricci 22 23 non c'è attacco d'opportunità no no non c'è e allora sono due dio sono 24 danni item fai curare spavi falla mettere tipo qui o qui che ha portato per entrambi e curare si sono tre danni curati molto utile ma piuttosto diamogli le pozioni e farcele bere la bacchetta la bacchetta item si può prendermela dalla tasca visto che tanto ci entra così spesso item dai si può dare l'arzale quanti punti feritai Akira 31 su 76 pensi di poter reagire un altro attacco perché sicuramente ne fa due ok allora vi è che lo curo ok lo curo con la bacchetta 1 di 8 più 3 6 perfetta le tocca a me si va bene la fluoro con haste il primo è uno stordente nice perfetto aspetta 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 allora quello è il secondo attacco questo ok questo è il primo allora quindi è il primo quello che ho tirato adesso il secondo quell'altro poi c'è l'ultimo del flurry e poi un altro primo per l'aste hai contato tutti i bonus si si ma no non ho haste su cioè in questi calcoli qua non c'è haste quindi questo è 24 il critico per di conferma è 20 ok allora allora preso il primo senza critico però preso l'ultimo perfetta 54 lei incassa sorridendoti è tutto quello che sai fare piccolo demone il tuo ritaggio forse non ti ha dato abbastanza tu un fiero oni come noi ma del resto ci hai reggettato quello sprazzo di umanità nel tuo sangue ti ha reso debole e adesso muori sono 17 danni ti attacca due volte col tetsubo la prima riesci ad incassarla bene mentre la seconda ti spacca quasi l'armatura 17 danni si comunque tu in teoria sei nel suo spazio cioè spostati un attimo dietro tipo qua boh eh qua togliamo sto ninja vai danne ok fai agire spide che voglio vedere sempre quanto cura spide spide ti prende la bacchetta ok quindi sono di 8 più 3 però c'è da dire che non conviene tanto che prenda la bacchetta eh ragazzi no allora non la prende infatti 9 danni curati a entrambi sì prossimo che dice che è facile gli tiro una fucilata la spada suisce una riechiccia nell'aria principi distruggete questa merita ok io mi sposto indietro uso un altro di 20 5 quanto 6 no vabbè è proprio un tiro della bacchetta normale 8 porca puttana no no il sigillo funziona automaticamente cioè subito cioè nel senso quanto quanto ci si mette usarlo in soldoni in azione una move per tirarlo fuori e una standard per tirarlo ma aspetta ma ce l'avete voi il sigillo eh forse la carovana eh infatti sì io sono sempre rimasto che era tipo protetta la carovana ok quindi cosa fai ah niente laggio akira e la flaro di nuovo spera che sia la volta buona la mia umanità è ciò che mi permette di rimanere ancora sano è diverso da quelli come te e tu sei quella che distruggerò la prima di tutti gli altri ioni delle cinque tempeste in realtà la seconda mi se ne rega per lui la prima il primo bello forte il secondo niente male male il terzo molto male malissimo questo preso sì ci sta vedi che vedi che le sue ferite si stanno rigenerando colpo dopo colpo vedi che dove praticamente crei degli ematomi con i pugni scompaiono non puoi niente mezzo demone non è che magari fai via spell utili dal tipo non abbiamo ciò che ha preparato lei allora 17 c c ha chi era 24 23 24 perché c'è ancora shield focus da prima quanti hp hai troppo pochi ok 29 hp sono aspetta 25 danni non lo prenderò mai più spy 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 sen twin spies continua a curare sono 12 danni curati ok uso il 15 come colpo stavolta e tiro nuovamente questo sono 11 danni ma non l'hai cosa? no niente non l'hai identificata alla fine non hai fatto una prova di chi no è vero è vero allora lo faccio ora subito cos'era? piani lanes sì sì chiaramente un noni ogre magi puoi farmi quattro domande ok resistenza e attacchi speciali soliti regenerazione che viene interrotta dal fuoco dall'acido inoltre resistenze sono queste ah anche resistenze incantesimi tra l'altro la resistenza la magia e poi che domanda? capacità speciali permanentemente vola inoltre può lanciare invisibilità oscurità a volontà e come ho visto ha un set di incantesimi di special di abilità magiche speciali come cono di freddo charms mostri forma sono profonda ok si possono sapere da di vita infatti charme ne ha uno no uno al giorno uno non lo so no no perché è uno di ognuno anche perché nelle tattiche del mostro sul mobile c'è scritto che casta entrambi quindi è uno di ognuno dicevo va bene allora altre due domande la resistenza capacità cosa vuoi sapere Andrea ma in realtà niente cioè non ho non ho altre beh non te l'abbiamo chiesto ma tipo la debolezza se ne ha a parte l'acido per la rigenerazione ma la debolezza beh è una semplicemente riesce a mutare a volontà o a muta forma d'accordo vabbè niente allora spy vi era curato si io ho fatto 12 danni a tetto ok io gli ho fatto danni a fuoco si poi le tocca ad akira la sua rigenerazione è ferma e tocca ad akira quindi lo gambliamo c'è eh gioco difensivo o gioco offensivo come non te ne giocare la difensiva mi ritiro mi bevo una pozione tanto ho airwalk eh ho capito eh anche lei vola si però intanto ho tirato una cozione e non ho più però così ho 4 attacchi ma tiro i 4 attacchi sti cazzi vaffanculo cos'è sta cosa da gamer infatti effettivamente non lo facciamo ne merda cioè 20 che è un 21 in realtà è un 20 c'ho preso preso perché sta male preso ah meno male funzionano anche per lui queste cose il secondo preso vai 3 attacchi presi bravo si comincia a ragionare descrivimela all'ultimo colpo di Tetsubo che mi tira lo paro lo paro hard con un pugno cioè proprio si sentono le ossa che si frantumano sotto il colpo di Tetsubo la guardo e fa non potrai sconfiggerci perché noi siamo ciò che distrugge i demoni noi non siamo demoni io non sono un demone gli prendo il Tetsubo con l'altra mano glielo piego fuori dalla dalla mia portata e con la mano e con la mano fratturata gli tiro un pugnazzo sulla faccia ma di una potenza senza aspetta c'ho anche questo e le tiro prima un pugno sulla faccia per stordirla e poi l'ultimo colpo apro la mano a lancia e gliela pianto sotto cerco di piantagliela sotto la gola per 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 tagliarle la gola e affondarla fino in fondo per quanto riesco ad andare stavolta non mi fermo l'Ocre e Maci che mandazzo viene colta completamente impreparato su questa tua controffensiva come gli sposti lentemente il Tetsubo di lato la sua espressione da vittoriosa cambia una punta di terrore si manifesta nei suoi occhi giallastri enormi la colpisce una volta sulla faccia sta per cadere l'indietro fisicamente frastornata da questo colpo la sua faccia schiacciata l'indietro del suo naso già a ridosso della sua carne già incavato si frattura completamente uno dei denti salta fuori gli distrogi praticamente in metà mandibola e poi sempre con la stessa mano con tutta la forza che incorpa tutta la volontà riesci a raddrizzarla a farla diventare una lancia letale le unghie affilatissime puntate sulla sua gola uno scattalentietro col braccio e poi nuovamente in avanti con tutta la forza della spalla la cola viene perforata dalla tua mano fino in fondo entri dentro col braccio che tocca fino al comito sorpassi la gola senti l'osso del collo che si frattura sotto la tua potenza il sangue scorca sulle tue braccia ti scivola fino al tuo collo scende sulla tua armatura l'oni ti guarda la sua espressione più terrorizzata che mai i suoi occhi sbarrati che perdono lentamente di intensità la sua bocca corgogliante piena di sangue che non riesce a parlare sia dalla paura che per il fatto che hai un braccio fottuto ficcato su per la sua gola prima che possa morire questa è la forza degli umani e questa è la forza dei demoni e tu sei solo demone non puoi vincere non potrete vincere e vabbè poi la butto per terra a malomodo tipo la faccio precipitare giù così come precipita finisce scagliandosi sulla spada sul suo la quale la quale era a terra ficcata per la lama per qualche magia leggendaria sulla resistenza della spada l'oni cadendo su di essa va a ficcarsi nella sua elsa che la penetra la penetra la sua pancia fino a fino in fondo esce dalla schiena e ciò che resta è l'oni a terra con la lama ficcata nella schiena nella pancia come se fosse stata una specie di seppuku oppure il colpo tombale di tauna io vabbè mi lascio cadere subito vicino a tauna scopro che è morto ti riporteremo indietro fratello ti riporteremo indietro strappo su scenda dalla ferita e la uso per tagliare la testa all'oni perfetto un un cetto di sangue si riversa nella stanza sulla spalla vedete che Akira non sta neanche più parlando tauna è lì per terra inerme senza vita esanime la sua faccia riposata come quella di un samurai che compie seppuku nella maniera più onorevole possibile nessuna smorfia si è palesata su di essa forse perché la breccia di freddo lo ha colpito prima che il suo corpo potesse reagire io mi avvicino e tipo lo sposto in modo per mettere una posizione sai come si mettono i morti durante le veglie cosa stai facendo non voglio lasciarlo in questa condizione guarda sembra stato massacrato in combattimento tiro un calcio a questo a questo paravento pensi che sia morto non è morto è solo temporaneamente fuori combattimento in un certo senso si ma è morto fisicamente ho intenzione di rispettare il suo corpo il suo corpo viene con noi certamente infatti lo me lo carico sulla spalla testa spalla aspetta aspetta c'è quella porta da visitare non sappiamo cosa può esserci cosa ci può essere altre monete d'oro altre pergamone di merda che cosa altro ci può essere oltre quella porta per quanto ne sappiamo altri nemici dobbiamo recuperarlo dopo capisco come ti senti ma lasciamolo qui torneremo fra qualche minuto letteralmente ringhia mettilo giù avanti lo metto giù guardo spai tu riprenditi dobbiamo ancora continuare cazzo mi bevo io posso vedere la tua mano se c'è qualcosa che non ha ferito non ha ancora ferito moderate ok cosa fate io boh intanto faccio tipo prendo lo spy vi la metto tipo boh se vuole entrare nella tasca o se no me la porto in mano le dico non c'era niente che potessimo fare per lui quello che c'era da fare sì essere più previdenti di così essere più intelligenti più furbi la maggior parte delle cose che ci hanno feriti erano a tre metri d'altezza te ne sei accorto fratello te ne sei accorto non siamo non siamo imbattibili non possiamo prevedere tutto nemmeno io posso farlo nemmeno mia madre dobbiamo esserlo non mi interessa se non lo siamo non è così che funziona deve funzionare così allora dalla prossima volta dietro di voi una luce così intensa da accecarvi per qualche secondo dal cielo letteralmente dal cielo perché il pavimento superiore il tetto viene perforato da questa luce così intensa che si riversa sul cadavere di Dauno viene trasportato in aria si solleva per qualche metro si mette in verticale le braccia le braccia verso il cielo verso l'alte come se qui stesse guardando mentre scende al fianco di Scizoro un'energia luminosa lo affolge completamente la sua armatura sporca di sangue si ripulisce la sua armatura al suo scudo in quei punti in cui erano mancati rotti si riparano istantaneamente il suo volto così pallido riprende il vigore di sempre riprende quella sua vita che un tempo gli apparteneva vi sembra per un istante di vedere un grande dragone dorato serpentino che volteggia attorno a Dauno siete estasiati abbagliati da questa luce così potente che vi scorca nell'anima vi riente completamente un istante dopo Dauno atterra in piedi la luce si disperte nella stanza la stanza che fino a un attimo prima era giusto un filo illuminata dai vari bracieri adesso è completamente raggiante tutte le decorazioni draghi neri vengono trasformate in draconi dorati tutto ciò che poteva raffigurare un retaggio demoniaco è stato completamente cambiato questa pagoda è stata consacrata nel nome di Shizuru e voi lo potete percepire da uno scende a terra vivo e vegeto un attimo confuso tu Dauno sai che qualcuno ha utilizzato il sigillo per riportarti in vita sai che qualcuno l'ha percepito ha percepito la morte di un fratello la mancanza di quel legame che supera il sangue quel legame che va oltre il divino voi siete i discendenti di Shizuru stessa e siete legati indistruibilmente l'un con l'altro Ameku ti ha salvato Tauno ha percepito ciò che era successo e si è esposta al pericolo per salvarti per riportarti in vita io gli metto le mani sulle spalle Tauno sei tornato e poi lo abbraccio come se in un attimo prima stessi cercando di mantenermi tutto sicuro invece una volta dopo averlo visto così di nuovo in vita mi si è lasciato andare Akira Akira sta guardando la scena con il volto deformato dall'incazzatura incredibile che gli sta correndo nel sangue si gira verso un altro paravento e lo distrugge e poi ne distrugge un altro no no non va bene questa cosa non va bene non va bene niente di quello che è successo io stringo forte Aidan senza dire niente poi guardo Akira e guardo il cadavere della tipa e poi ripenso ad Ameku Suishen stava no ce l'ho in mano io ah ok io mi t'abbicino non te sfioro la mano però in realtà afferro le alza di Suishen ti guardo c'ho uno sguardo confuso ma allo stesso tempo deciso nel senso come se dietro la confusione ci fosse una concretezza di qualcosa da fare è anche uno sguardo complice nei tuoi confronti non va bene questa cosa abbiamo perso oggi ci siamo fatti battere calma il tuo cuore si calmerà e libera la mente sono qua si si adesso gli appoggio l'altra mano gliel'appoggio sulla spalla stringo forte allora calmati perché non abbiamo tempo da perdere dobbiamo tornare immediatamente alla carona non abbiamo finito indico la porta dobbiamo pulirlo tutto questo merda di posto Akira il sigillo è stato aperto a me che potrebbe essere in pericolo dobbiamo assicurarci che a me è così al sicuro cominciamo a andare però in ogni caso qui dobbiamo ripulire non possiamo lasciare così ci metteranno pochi minuti dobbiamo sapere che questo posto è pulito facciamo in fretta allora va non butto giù la porta con un calcio allora 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 vi dico subito il passaggio oltre la porta no beh in realtà non c'è non puoi vedere la porta perché sarebbe segreta però la notte è fatta il nerd quindi cercate bene semplicemente la trovate ok trovate praticamente vi guardate intorno beh no in realtà visto che è stato tutto santificato potrebbe essere tipo sì esatto è un'ottima idea praticamente si appare anche la porta ciò che lo nascondeva scompare è riuscito a vederla tu anche la sfondi con un calcio il passaggio oltre la porta è particolarmente gelido dietro l'angolo si trovano due porte di legno robusto che sono da grosse serrature vaffanculo le serrature vaffanculo a questo posto cerco una chiave sul corpo di lei allora ti dico anche quel che trovi allora il tetsubo papà se il tetsubo è quello che ti interessa di più no perché non lo posso usare ah no se lo posso assorbire vabbè eh il tetsubo prende in mano la sua arma demoniaca un'arma di distruzione che ti ha quasi buttato giù ti ha quasi distrutto tutto ciò che hai costruito fino adesso quest'arma lo stava per vaporizzare un grosso bastone tentato ricoperto di macchie di sangue incrostate lo prendi in mano e il dolore dietro il tuo collo si fa più intenso per un attimo un nome nella tua testa risuona fiurante io prenderò la tua anima mostro non puoi avermi provato a dirmelo di nuovo stronzo e lo assorbo ora che ho fammi volontà queste cazzo di cose su volontà che c'ho uno su volontà c'è ancora il cerchio di protezione dal male aspetta rientri nel laure però prima magari mi curo perché sennò c'ho Wunded e mi va a meno due aspetta prima di fare sta roba mi faccio curare il Tetsubo rinforzato con sbarre di ferro corroso e borghi di un tone su cui sono incise inquietanti scritte in pianese che parlano di punizione e di dolore quando lo vedo che si avvicina a lei e vedo che è ferito immaginando quello che potrebbe fare gli poggio una mano sulla spalla e la luce dorata dalla mano si espande sul suo corpo e cura un po' delle ferite ok se no ho altri 3 adesso serve che siete tanto ferite no io no spavie come mi sta spavie la prendo tra le mani ma spavie non si è curata insieme a noi prima tutte le volte si comunque la prendo tra le mani le faccio mi tolgo la maschera le faccio un sorriso di quelli proprio occhi chiusi sorriso caldo e gli faccio un cura ferite moderato ok io ho bisogno un'altra curetta anche piccola questa qui prendete la tua vai ne posso fanare senza problemi eh sono spera sì ma per i 22 c'è che spavie penso sia esagerato sì adesso faccio una light ok sono full light e a questo punto cerco di ass... qualcuno c'ha per caso resistance no non mi può castare no io c'ho solo il bless che non l'ho preparato il protection from heavy che ce l'aveva ah vabbè però c'ho protection from heavy e c'ho bless ancora quindi 22 praticamente entri in uno stato di trance in cui ti ritrovi completamente nudo di fronte a quest'anima guizzante nera oscura necromantica spatti le palpebre e vedi un loto nero le riapri la fiamma guizzante è sempre lì al suo posto per un attimo fiamma e loto si sovrappongono come se come se la prima bruciasse il secondo per un attimo ti sembra di rivedere il loto in mezzo a quel lachetto che brucia una singola visione ti scuote l'anima qualcosa di così primevo non capisci perché ma è dentro di te forse dentro la tua corruzione quella parte di te che non si è ancora riuscito ad eliminare del tutto il loto nero sei tu Akira è che Karawashi le sta bruciando di intensità perché vuole uscire non perché sta morendo perché si fa ogni giorno più forte ogni singola volta che assorbi una di queste anime demoniache protendi la mano verso la fiamma necromantica e la chiudi senti il tuo palmo che brucia senti l'intensità del fuoco malvagio che riecheggia la tua anima apri la mano e vedi il fuoco il fuoco domato sopra il tuo palmo vedi giurante vedi le scritte di Anne che parlano di punizione e morte di fronte a te passano centinaia di parole centinaia di scritti che parlano della sofferenza e sai sai cosa puoi fare sai della sottomissione che puoi imporre perché tu Akira non sei un demone tu sei il principe amatazzo e i plebei dovranno rispettare la tua volontà operire nelle fiamme dell'inferno se questo questo è ciò che ti palena in mente un attimo dopo ti risvegli cosciente cosciente del patto malefico di quella parola plebei che non ti si addice eppure la tua psiche l'ha formulata voi voi che state osservando tutta la scena vedete Akira imparate le convulsioni che stringe il Tetsumo nelle sue mani fino a sanguinare un attimo dopo una luce nerastra si palesa dall'arma fino a creare una specie di buco nero che risucia l'arma stessa e finisce in comunione con Akira col corpo di Akira come se avessi assorbito l'arma tutti i risvegli Akira e sai che il potere è stato acquisito il dolore dietro il tuo collo si fa più intenso quasi fino a piegarti per terra e sai che sarà così e sai che sarà ancora peggio nel corso del tempo ma tu devi resistere è l'unica cosa che puoi fare e sono piegato giù lo aiuto ad alzarsi ce la fai Akira sta diventando sempre più doloroso non riesco nemmeno a capire dove arrivi questo questo tipo di magia è qualcosa di primitivo è qualcosa di antico è qualcosa che nessuno dovrebbe provare ma che io soltanto io posso portare a compimento e quando porterò a compimento questo viaggio attraverso il dolore attraverso le anime di questi mostri che uccidiamo allora allora potremmo governare insieme ad Abeigo come veri eredi di questa famiglia bello figo questo giuramento dura per sempre o fino a quando tu decidi di rimuoverlo ed è anche quello che chi mandazzo imponeva sui suoi sottoposti no carino ecco perché morivano perché erano meno tre tipo si prendevano 12 di 6 sul viso erano tipo 23 danni assicurati no 21 però sicuramente di più 12 di 6 una 41 41 eh beh se c'era una mezza idea di far sopravvivere a mogliani però ho detto l'avete massacrata senza pietà ma stai pensando sopravvivere tu sei pazzo no è andata bene che è morto ma infatti cioè c'era altro vabbè luto il resto sul ca si sul cadavere sul cadavere c'era anche allora un arco lungo composito perfetto con forza più 7 quindi interessante si lo sostituisco al lo fai a usarlo all'archetto corto lo fai a usarlo per ora no però lo potete avere ancora meno 4 così chiappo tipo a meno 5 ok però lo prendo questo lo prendo nel senso beh chiaramente prenderlo si tecnicamente tutto quello che indossa non lo possiamo ripaggiare giusto perché dettagli grandi allora l'armatura si però le armi no ho scoperto di no perché tipo c'è un'arma qua c'è scritto nell'avventura che si rieda è alta comunque l'arma l'ha assorbita quindi scherzi poi ha un tatamido grande ma non ha senso perché non è nemmeno magico ok quindi poi aspetta e poi basta non ha nient'altro addosso neanche le chiavi niente si scusami si ah delle chiavi tre chiavi inoltre se volete sapere ciò che c'è nella stanza ciò che c'è nella stanza la stanza non contiene niente di valore oltre due barciari di argento che potrebbero valere un po' ma sono molte sono molte incombranti quindi no no quelli non si fanno parte delle cose tra parentesi ma non ha senso prenderli sono di valore si come tutto il resto che passeremo a prendere dopo si ma io non mi ricordo tutto il resto ragazzi ma li abbiamo abitriti eh ok sono bracciari di argento che valgono 75 ma avete l'uno comunque tra le cose che non avete passato in rassegna vi sono dei vari vari lì così che potrebbero interessarvi poi ci ripensiamo anche perché adesso che piacciate per bene mi metto lì e guardo come sta la carovana i carri che ci sono insomma quindi il cibo mi fa comodo avere delle scorte di cibo senti ma tanto al caso non si potrebbe ripassare una volta che partimo con la carovana si 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 chiaro chiaro però devo guardare le stanze dove ci sono le varie cose comunque a parte questo trovate le chiave aspetta prima che apri come dicevo io prima facevo l'individuazione delle aure tante volte c'è forse qualche altro non morto o bestia schifosa un'aura malvagia proviene da questa zona un'aura piuttosto debole beh chi te lo dice che non è allineato semplicemente non è che deve essere un chierico un non morto o quel chierico beh apro apro la porta c'è qualcosa dentro mentre la apre apre la porta allora la guardo male comunque qualsiasi cosa sia la guardo male dentro la stanza vi è un freddo glaciale un freddo che vi penetra le ossa quasi come quello del cono di Giamandazzo e all'interno della stanza in penombra le fauci enormi di un lupo ringhiante dal naso dal suo naso fuoriescono oggetti d'aria fredda che prova devo fare arcana sì è un lupo infernale è malvagio però è una natura lì sì ed è in questa stanzina piccola sì sì è proprio cioè è tutto è tutto è un po' bello ti osserva e ha uno sguardo ostile ma non vi attacca fermi penso che sappia parlare cosa? certo che sto parlare non abbiamo tempo da perdere levati dal cazzo ti ringhiacontra cosa vuoi sperare di tenere demone sei venuto qui per me di te non me ne frega assolutamente niente ho ucciso la pallone ho ucciso la ho ucciso la demonessa che l'oni delle cinque tempeste che reggeva tutto questo testo di merda quindi utilevi adesso entro uno due trattami un motivo per cui non dovrei attaccarvi e mangiare le vostre mule la calda che coglione gli sentiva e strago ragazzi ma lui mi sta veramente chiedendo cioè nel senso non è che è strago e se lo posso in shen gli la mostro fiammeggiante ti rendi conto che abbiamo appena ammazzato quella che probabilmente ti ha metto qui dentro quella che mi ha messo qui dentro ogni volta che entrava rischiava di rimanerci secca se non vi è chiaro quel che sto dicendo posso fare intenzione sono prono ad ascoltare le vostre intenzioni perché avete ucciso quella strega ma non dilungatevi spaccone rievarie allora Taono è veramente prono ad ascoltarvi però diciamo che l'atteggiamento di Akira non fa altro che peggiorare la situazione secondo te riuscirebbe meglio andarci di tanto piuttosto che di intimidazione senti la nostra battaglia è stata quella che è stata adesso abbiamo fretta la nostra domanda è semplicemente te ne puoi semplicemente andare allora tirate diplomazia se volete aiutarmi ma in realtà non c'ha molto senso che lo aiuto perché sono andato giù duro tu no tu no però Aydan si ok facciamo che ha tirato Aydan quindi di qualcosa anche tu spegni la gatling amico mio senti siamo abbiamo scusate abbiamo appena abbattuto quella quella strega quel mostro non vogliamo altri guai qui stiamo soltanto dando un'occhiata per favore possiamo vattene voglio dire immagino tu sia stato rinchiuso qui troppo a lungo lui vi osserva me ne andrò fatemi passare la maestosa creatura vi passa accanto una colata di di cielo si riversa su di voi mentre il il mostro enorme si avvia verso l'uscita come super la porta inizia a correre per una volta abbiamo evitato lo scontro devo dire è un lupo malvagio però intelligente aspetta un secondo allora noi dobbiamo andare al nord ok noi dobbiamo andare eh lui è un lupo invernale infatti conosce le terre mi è venuto in mente adesso vabbè ma abbiamo la guida per quello magari può essere lui la guida effettivamente ci ho pensato ok mentre si sta andando ehi tu lupo lui si gira verso di te ancora tu aspetta ho una proposta per te tu vivi nel ghiaccio giusto cosa ti sembra secondo te conosci le terre del nord la corona del mondo le terre del nord e dove sono diretto conosci la strada per andare oltre fino a Min Kai io non conosco il sentiero di voi umani ma so sicuramente come sopravvivere all'interno della mia casa quindi sai presti per cacciare il cibo e tutte queste cose dove vuoi arrivare umano lo sorrido perchè mi ha chiamato umano mi ha conquistato un accordo di mutuo beneficio dove sarebbe il mio beneficio dell'aiutarvi beh che tu rimanendo da solo sei pur sempre da solo e poi mi ha assicurato di proteggermi se se tu se tu non hai intenzione di metterci in pericolo non abbiamo se tu giuri di non attaccarci nessuno della nostra carovana devi toccarlo Akra infatti gli offro la mano se io giuro di non attaccare voi voi giurate dunque di vegliare sul mio sonno lo faremo aggiungici anche di non attaccare gli innocenti non voglio avere un lupo aggressivo commento io procaccio ciò che devo per sopravvivere beh sì se dovesse essere un mercante sperduto che sia così accettate le mie condizioni voi non dovrete vedere non sarà necessario che assistiate la mia caccia quando sparirai semplicemente non ti seguiremo e quando tornerai alla nostra base avrai la nostra protezione e tu ci porterai dall'altra parte mi sembrano buone condizioni solo provano a credervi poiché avete ucciso chi mandazzo beh comunque gli offro sempre la mano l'inosserva ti ringhia contro cosa sono questi modi da umano io non conosco beh ci si stringe la mano tra guani per sancire un giuramento lui ti dà la mano ti ha la zampa e io gli apri col giuramento una specie di legame tra te e lui si si forma come se tu per un istante vedessi una specie di corda che vi lega mano e zampa una corda un filo spinato insanguinato il lupo ti osserva con gli occhi sparrati cosa succede ho percepito è un giuramento è un giuramento è un giuramento di quelli veri un giuramento magico dunque saprò che voi avrete rispettato la parola no però vabbè lo so tu fidati di noi noi sappiamo gestire noi sappiamo rispettare la parola fai lo stesso e saremo grandi amici nel freddo e nelle avversità così come noi abbiamo combattuto fianco a fianco il mio nome è Schegni bene benvenuto a bordo Schegni quale sono i vostri nomi voi non avete ancora pronunciato la parola il mio nome è Akira Akira della famiglia Amatazzo Aidan della famiglia Amatazzo Tauno della famiglia Amatazzo Spivey della famiglia Spivey e e comunque si avvicina al tuo orecchio ah che scusami Aidan non mi piace per niente questa storia io non voglio avere niente a che fare con una gradura del genere non so per che cosa si è altra in mente è malvagio ci mangia del zotto Aidan ci mangia del zotto non può farlo non puoi saperlo c'ha dodici di sei puntati in faccia più nove più nove Spivey è un giuramento magico non può violarlo ne parliamo dopo comunque capisco capisco guardo la porta nel frattempo guardo schigni faccio tipo incenno d'assenza tipo giusto aspetta un attimo l'aspetta un attimo la pellucola ok allora apriamo la porta andrea ci sei? si ci sono sto aspettando apriamo la porta ah ok non l'avevo capita scusate allora questa camera è immersa nell'ascolta completa e l'aria è saturata in puzzomar c'è un istantio mescolato a quello di corpi che non si lavano da tempo e il silenzio è interrotto solo dallo scocciolare dell'acqua e da un gemito soffocato c'è qualcosa di malvagio lì dentro c'è qualcosa di malvagio lì dentro c'è qualcosa di magico lì dentro c'è qualcosa di pugnabile lì dentro c'è qualcosa di qualcosa lì dentro non c'è niente di malvagio ok penso che faremo un percezione dentro di un 1,5 faccio percezione perfetto tu tu puoi toglierti quel cerchio di merda no no lo so sempre come maura di sicurezza allora 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 è vero l'angolo l'angolo nord ovest della stanza è occupato da una bozza d'acqua tiepida generata da un'infiltrazione del laghetto delle carpe coi nell'aria sovrastante noti 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 delle creature simili a lucertole troppo cresciute umanoidi che si stanno cibando di qualcosa all'interno del laghetto sono due di queste cose usciamo e chiudiamo la porta fallo intanto no uscimmo schigni o schidimi ti l'ho detto che ci sono dei gemiti che provengono da un altro angolo della stanza ah ok provengono dallo stesso angolo no e da qua tipo cioè loro i cosi sono qui e esatto ma io c'ho dark ma io non ci vedo c'è una panetteria ma poi io posso c'è cazzo luce così stanto ti giri Akira ti giri in un angolo che tu non l'avevi notato perché era praticamente sei stato assorbito subito dalla ghetta diciamo vi è una persona vestita di stracci legata per terra capelli piondi quasi quasi bianchi lunghi barba scartuffata assolente corrisponde alla descrizione di Ulf per poco lo lasciavamo qua finalmente ecco la nostra guida non un lupo malvagio lo davo per disperso Ulf si guarda intorno come se fosse cieco oh no bella guida bello sguardo mi fai una prova di 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 arcana indovina chi sono blind haim con le creature con lo stagno blind haim con le creature nello stagno e sai che rendono c'è che le persone momentaneamente si attaccano immagino ma devono cosa fanno tipo si attaccano alla faccia tipo alien o cosa allora no sono emettono una luce molto forte che ti acceca ok sembra sembra essere cieco ma sono state loro quelle creature a proposito cerchiamo di evitarle chi 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 Ulf si gira verso di te da dove viene il suono della voce con una voce roca sfinita chi chi è la squadra di salvataggio e poi vado verso di lui per aiutarlo ad alzarsi chi siate chi siate fermi non toccatemi siamo amici di e dico il nome della tipa Oxh si dai muoviti a uscire una luce si palesa negli occhi di Ulf Oxh tirate iniziativa oh cazzo io uso la move per mettermi blind fight ok e poi dopo tiro iniziativa la move per metterti blind fighting ah dimmo cosa fa il lupo mettetevi l'iniziativa il lupo è fuori vabbè il lupo è fuori di testa zio contro di lui non ho capito no sono le bestie ma magari sta Oxhack è una gran troia ma cosa stai dicendo sono le bestie che ne so Oxhack ha tirato iniziativa normale si è andato prima sono sono taglia piccola comunque schiaccia schiaccia la testa infatti grazie ti schiaccia la testa ti pasti madonna si pastia no allora da uno cazzo c'è Ulf che dice Oxhack e mettere l'iniziativa chiaramente è un'altra cosa porco si ma se non usi la punteggiatura ma c'è la punteggiatura erano i tre punti di sospensione andre metti le virgole cazzo va bene allora si direi che va Aiden si ah non ci sono le tipe qui ok allora ma sapete una cosa divertiamoci un po' allora provo tipo a usare una caso grise che mi è rimasto ma ho solo scopo di fallirlo e provare a vedere uno degli effetti random della prima il magic quindi tiro spurs in questa stanza ma si vediamo che succede tanto in tutti i pool più o meno perché devi fare un total party wipe out così ma figurati vuoi che succeda mi pare sia questo eccolo là l'ho pure passato e niente allora è un grise gratis ma non puoi fallirlo volendo cioè non puoi fallirlo a caso potenzialmente eh no cioè è un grise sulle creature eh si cd sono fuori dall'acqua ora no cd no sono dentro l'acqua sono dentro l'acqua quindi l'altro non serve la cd akira mi faccio avanti qua e flare sul primo è dragon style ovviamente vai distruggi questi regri ok preso è a 0 barcolla ma non molla usciso l'altro va a 1 l'altro no penso che prima uccida 1 si oppure no l'altro non lo prende da 1 siamo ancora no nulla non c'è più waste non c'è più un cazzo e poi gli è meno aspetta 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 prima di tutto in realtà ho sbagliato fatemi una prova di fortitude ma se lui ha detto che fa con lo sguardo io non sto guardando tengo gli occhi chiusi anch'io nigg basta guardare ma blind fight però ha una percentuale di risoluzione eh tiro due volte per colpire tiro due volte il percentuale tirolo vai allora primo attacco vabbè ok però aspetta in realtà è un externo di riabilita quindi anche se gli occhi chiusi in teoria non è 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 ah si è è è vero hai ragione quindi si è ragione 72 quindi hai colpito è sempre sopra io e poi il secondo attacco mi è colpito anche il secondo ok voi fatemi forti ah cazzo tavolo 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 tanto io sono ormai subituato a diventare cieco qua praticamente osservi i blind che si gira verso di te e la forte luce dei suoi occhi ti prendra la vista e ti acceca ma io non ho capito in che turno hanno fatto sta cosa gelando permanentemente appena parte il combattimento si appiccia ok forte quindi devo fare blind fire tutto regolare 50% posso attaccare e poi tiro una percentuale beh se vuoi si sopra o sotto 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 bella tira anche il d6 dell'infuocata ok 8 6 8 no non l'aveva già danneggiata no ah no 8-9 prima e il blind game ma che cazzo fa si butta su di te a tavolo si butta sott'acqua poverino anti su di te akira niente non ti prende aida ok mi sposto qui e gli spari in faccia un dardo no perché c'è un dardo perché no tanto si attaccegano ma chi se ne frega se cercano per qualche round dai ma poi scusa non immagino che sia una volta tipo ogni 24 ore sta cosa no possono attivarla o supprimerla come free action ok ma tu ogni turno devi per forza fare il tiro salvezza si si sei sicuri perché no scusami normalmente le creature che hanno una cosa a effetto sei immune per 24 ore e vabbè quindi cosa devo fare spostarmi insomma infatti vai akira torno verso il lupo c'è un piccolo inconveniente aspetta e mi tolgo dal cono di luce suo apro gli occhi che tanto non sono più davanti al cono ok ok è detonato si si direi proprio che si è proprio esploso c'è tipo in mille pezzi tipo o ma o shindru nani nani non vale questo non vale Andrea l'ho detto alla discussione dell'altro giorno non vale non si può dire nani perché quando abbiamo pensato al retrain avevo detto da come andavano le cose ah si buonissimo così adesso faccio tutto tipo fluffa un colpo solo e grido oh ma è un uomo uscigliere se dicono nani esplodo vedi il blind tape tipo che si gira verso gli occhi sparrati e fa nani esplode parlano in realtà insomma dicono solo dicono solo nani e basta è l'unica l'unica cosa che possono dire qualsiasi mob che sta per esplode prende il linguaggio e dice nani e esplode non è una capacità sovran naturale infatti tipo le famose mailman che dicono nani non esplode gli esce la bocca gli fessi solo la bocca esce infatti è strano che la tipa prima non abbia detto nani prima di morire comunque c'è sempre una stanza che dovete aprire è vero ok allora porto il disco verde non ero di attivo mi sono portato le due teste nel frattempo tutta uno sei cieco e e per farti appoggiare a qualcuno così come appoggiare ma appoggiare a wolf e che ce l'ho anche lui beh una matastonia a quattro mani oh è una prova it's gay shit allora apri la porta dunque c'è dentro un drago rosso acciambellato allora aspetta questa qualche stanza questa allora apri la apri la porta e fammi riflessi ho evasion no ah ok quindi non prendi danno c'era la trago no aspetta prendi danno no con evasion non prendi danno ok tirate siate allora tu Aydan sei lì in quel punto sono lì sì in realtà sono aspetta fammi vedere un attimo di la verità dove sei beh dove saresti messo se senza sapere della trappola ma non è senza sapere della trappola io mi sono entrato cioè mi sono messo qui perché aspettavo poi dalla porta tanto c'era lui ma poi mi sono sono sempre stato lì non è che mi sono spostato quando hai fatto la trappola ok niente praticamente la stanza si infiamma di colpo l'incendio ti sovrasta Akira ti spinge indietro una fiammata ti investe completamente vedete che tutto in questa zona qui il fuoco rossasto l'unione investe qualsiasi cosa dopo qualche istante si interrompe scompare nel null e Akira è illeso si cosa è successo non ho sentito niente guardo dentro ok dentro allora oltre la porta si trova un vero e proprio deposito di oggetti preziosi accumulati in un unico posto forzieri traboccanti di monete d'oro e d'argento casse piene di lingotti commerciali in metalli preziosi calici a forma di codorati e cesellati che spuntano ad un sacco di chiuta e forzieri colpi di monete d'oro e d'argento in quantità raramente viste in questa parte del mondo veniamo all'ut io da quello che ho capito dentro la stanza c'è un'altra carrozza della carovana giusto? no c'è? un carrozza non l'ho capito ah capito è il meme allora allora inizio a dire quel che ci so quel che c'è voi segnate tre forzi devo capire dovevo segnarlo ok ve lo scrivo tre forzieri 25 kg l'uno in totale in totale contengono fermagli e bracciali per un valore di 200 ok intanto questo non è finito aspetta valgono meno di quanto pesano si per 5 casse con incotti di rame commerciali 5 sta roba da zingani no di rame ospetta allora l'ingotto 5 peso 5 kg per 20 per 20 cassa in 100 totali quindi 500 ma totale c'era mica la gru fuori dopo per eh già inoltre per una cassa da 20 lingotti 8 100 5 500 50 euro quindi abbiamo tutto è una roba da poveri questo è una roba da poveri aspetta non è ancora finita vorrei ben vedere da uno non è morto per questo what is this gay shit minchia su questi sono tanti eh sono tanti soldi questi qua sì ci posso stare minchia 150 per 23 i quarzi citrini i quarzi gialli questo no questo lo devo regalare per forza a sandro no scusatene scusatene ogni calice non vale 150 ma le 15 mi sembrava ah ecco ero già quel cazzo in mano allora aspetta devo dire il tavolo non è morto per questa poi poi aspetta poi altri forzieri avversieri stai inventando quelli dell'avventura sono finiti due forzieri fa però ci stiamo lamentando faccio trovare una borsa conservante dove portavi a sta roba e sti cazzi dai su allora dicevamo sono 20 forzieri con 15 statue poi trovate altre 800 queste qua quelli sono soldi moneta cantante aspetta un attimo e poi basta ah no aspetta e non forse è recito che pagamento di ulas che però chiaramente appartiene a lui ma lui è cieco occhio non vede vi permetterò di rubare io sono un coradino che è cieco anche lui o altro comunque segnatevi che il pugnale di Omoiani vale 10.302 monete d'oro quindi chiaramente lo vendete la metà da cuoco però segnatevi il prezzo quello lì e poi facciamo i conti dopo quando se lo vendete 10.302 sui scendo non fare stavamo già per venderla poi lo lo sciuzzoco del vento notturno vale 12.000 minchia quante crati del fuggitivo avete 6 tipo 6 minchia seriamente sì giustamente però hai preso un bonus all'attacco quindi va bene vabbè ma quello costa più 2 eh infatti quindi va bene ok questo qui è tutto quello che ah no aspetta quanti shuriken la pillo avete trovato quelli esplosione perché quanti ne abbiamo trovati in senso c'erano tanti in giro ah no niente non sono shuriken la pillo le ha usate tutti la tipa mi dispiace queste sono le cose che abbiamo trovato beh direi che è stato un po' luttuto sono nato cioè tutto compreso va bene allora andiamo a riprenderci il tizio pazzo sì sentite una cosa stavo pensando no veramente volevamo lasciare di qui Ergerval dicendogli che torneremo non so se poi lui ci resta davvero ma perché vuoi stare da qui chi cazzo ci viene qua più no l'abbiamo sgominata l'abbiamo sgominata ma ci vogliamo fidare del master ma ci vogliamo l'angelo che spaventa gli altri che si avvicinano tipo uh infestata questa cosa ma no in qualche modo portiamo via tutto no vabbè perché tanto per le cose tipo queste cose davvero ci possiamo ripassare quando partiamo con la caravana non è un problema però per queste di qui che veramente valgono soldi solo che sono pesantissime cioè raga per 3.000 monete d'oro sto peso non gliela famo ne vale manco la pena portarlo via adesso eh ma adesso non potete portarlo via appunto senti Andre fa un patto col master stringiti la mano ripassiamo 8 ore vabbè ma obiettivamente che cazzo ci deve venire qua eh infatti già poi voglio dire non è che non è un tragitto frequentato ma poi chi cazzo lo sa che l'avete scominato oltretutto potrebbero essere benissimo dentro a fare le loro cose va bene dai i corvi vabbè i corvi erano sotto il controllo del corvo ma poi d'accordo quindi torniamo a casa c'è ancora una cosa da fare c'è ancora una cosa da fare la capanna no non c'era nessuna capanna ragazzi era quella cosa è la cucina la capanna questa roba quella non c'era nulla qui dove? c'era questa qui la capanna quella è la via pescende questo è il capanna attaccato alla fortezza noi eravamo convintissimi ci fosse tipo un'altra capanna qui oltre questa porra sì è vero no questa è tutta una mappa va bene dai allora andiamo alla gru e scendiamo alla gru non c'è una gru sui camminamenti una gru veramente? no non c'è un meme prima quando ha detto ragazzi c'è la gru aspetta non c'è nessuna calura ragazzi no così salta fate il salto no è impossibile ci sono dei cecchi qua come fate con la coa può tanto bastare quanto dura l'effetto l'ecercità un'ora aspettiamo un attimo ce ne facciamo se volete potete ruolarvi parliamo un po' infatti un quarto d'ora uff chiaramente vi ringrazia per il salvataggio si mantiene sulle sue abbastanza comunque anche perché tocca mantenersi un attimo ti abbiamo cercato ovunque in una nave in fiamme nella gilda dei figli di puttana che si spacciano per una gilda commerciale e adesso qua dentro fiammantato shak per me ovviamente penso che voglia il tuo lo ti fulmina con lo sguardo sa che mia sorella ma chi è voleva il suo ritorno il suo ritorno cosa stavo per dire ulfa spuffa chiaramente condonendosi ha ucciso per molto meno sei serio cerchiamo di non sfociare questa attività perché ho fatto un patto con un lupo da inverciare ma dov'è skygl skygl il lupo si tiene sempre in disparto chiaramente vado non sta vado dal lupo fai dal lupo lui ti ti guarda con il suo sguardo gelito ciao non desidero intrattenere alcuna discussione di tipo amichevole io cosa tu io volevo solo chiederti se ti piace la musica la musica l'unica musica che so sentita sono i tambori dei giganti del ghiaccio che sbattano i tambori fatti con la pelle di umani straziati si la morte la distinzione benissimo ma quella non è musica quella è un rumore assordante di cose che cercano di ucciderti no ma questi giganti stanno nelle montagne del nord è gigante tu non sei con loro non saremo ah già si sono allontanati no cioè è roba che cerca di ucciderti no è musica stolta ok cioè se lo dici tu voglio dire ognuno ha i gusti musicali che ha e sei amico di questi giganti l'alleanza con i giganti del ghiaccio per noi lupi è semplicemente di convenienza vabbè ovviamente tutte le alleanze sono di convenienza e saranno così a me non pare giudicando voi umani create rapporti basati sull'amicizia siete disposti a sacrificare l'un l'altro per salvarvi a vicenda io questo non comprendo beh magari un giorno potrai comprendere che stanno con noi il lupo ringhia considera che è un colosso che ti sovrasta cioè è più alto di te io sono straiato per terra cioè sono assolutamente tranquillo sei tipo sdraiato puntato su puntato sui gomiti no è tipo tranquillo non è no non è il dog che si sottomette però è tipo sdraiato comodo e il lupo continua ad osservarti probabilmente chiedendosi cosa tu stia facendo è così che nasce l'amore c'è qualcosa che non capisce mi guardi come se ci fossimo appena lasciati cosa stai platterando umano sto cercando di capire che cosa pensi sto pensando che i vostri modi di fare sono alquanto peculiari beh anche i tuoi lui non risponde però voglio dire se il mondo è bello perché è vario io ho le corna lui ha i vitici Tauno è appena morto e tu e tu sei un lupo bianco che soffia freddo dalla faccia quindi voglio dire chi sono io per dire che qualcosa è sbagliato non comprendo ancora questa tua voglia di fare conversazione con me eh amico mio dovremmo passare molto io non sono tuo amico certo ovviamente quello che voglio dire è che dovremmo passare molti mesi nella compagnia reciproca no la cosa la cosa che si fa durante la compagnia reciproca è trovare qualcosa da fare e dato che non possiamo continuare a battibeccare e a guardarci in cagnesco l'avete capito l'idea è che è solo lui lì con te infatti ho guardato verso di loro che non mi sentono cioè era proprio tipo in cagnesco l'avete capita non l'avete capita e quindi troviamo qualcosa da fare non lo so giocare a un gioco da tam cantare insieme tu urli alla luna io ti vengo dietro con la musica tu urli alla luna sei uno di quei lupi che urli alla luna io non sono un animale beh ovviamente no però può essere che tu abbia certe abitudini non so magari la mattina quando ti svegli o la sera prima di andare a dormire i chirulati sono apprettamente un modo per comunicare e in realtà lo sono anche per i miei cugini inferiori se tu mi sapessi qualcosa infatti io non ne so un cazzo per quello che ti chiedo lui ti osserva sempre più storto vattene adesso ma sei sei gelido nel cuore anche la prima o poi te la prendi la moccigata si si i danni ma ne sarà valsa la pena ma nel frattempo Elgerfall cosa stava facendo infatti volevo dire che io tozze bocconi mi trascino Elgerfall io vado con lui il lupo sta in disparte mentre voi voi vi avventurate verso insomma il ripostiglio il tele del vivante qui era Elgerfall trovate Jutta che sta facendo conversazione con l'angelo entri dentro nella voce di Ergel Valls frasta nella stanza ed è così che i prodime seri affrontarono un gruppo di uomini mascherati su una nave in fiamme oh eccoli qua ora dunque avete compiuto la vostra missione tentenno fino a raggiungere un appoggio però per il seremo ebbene si nel frattempo beh Tawne è morto però cosa significa che Messar Town è aperito io la vedo viva e feceto di fronte a me dovresti sapere che esistono metodi in questo mondo e in altri per riportare in vita le persone decedute specialmente quelle meritevoli di essere riportate in vita io non dico niente ovviamente ciò che dicono è vero Messar Town la luce divina vi ha riportato a questo mondo la forza del nostro sangue mi ha riportato in questo mondo si il volere della famiglia Matazzo il volere della famiglia Matazzo comprendo la volontà della tua dea è così forte e splendente ha voluto ha voluto che il suo miglior samurai Messar Town venisse riportato in vita per combattere un'altra battaglia questa storia verrà raccontata nei secoli a venire io sono ancora con il dog lo non guardo con un certo imbarazzo capisco la tua enfasi Argerval per ora preferirei poter assorbire il messaggio senza che troppi troppe orecchie vengano a sapere di questa storia Spivey spunta dalla tasca sciocchino non devi preoccuparti di Argerval che è un po' tonto nella testa e va a smattere sul cranio cioè sul lembo dell'angelo si avvicina verso di te Tauno devi preoccuparti di me perché io sono una cantante e canterò le tue gesta sai Tauno l'hai fatta piangere prima quando sei morto e me ne dispiace lei ti può mettere sul bronzo io prendo non si fa Tauno intanto siamo loro stavano sulla stanza quella dei rifornimenti no? l'avevamo lasciati lì allora a tastoni cerco una botte faccio tutto con molta dentezza e verso cerco qualcosa per per versa da bere e lo verso e poi lo lo porgo a Spivey cosa le stai dando? non lo so qualcosa da bere non lo so se in realtà è veramente da bere magari olio devo capire devo capire in che stanza siete in quelli dei rifornimenti dove c'erano i barili il cibo e tutto quanto avevamo detto a Erger voglio andare lì con il messo per farlo mangiare che era magro ah qua 19 qua questo gusto qua si si 7 7 barili di birra 2 barilotti di citro e un bici oltre di vino speziato è la scelta eh vabbè io vado a casa non è che posso scegliere magari stappo sento l'odore ma il sidro se trovo il sidro gli verso il sidro e glielo porgo lei prende il bicchiere enorme quasi le cade precipita si esatto precipita per terra fino a quando qualcuno lo prende non è che lo deve reggere cioè glielo porgo lo tengo cioè fatto in bagno ok lei tipo ti guarda cosa dovrei fare bene un stufo un stufo no non si fa si stufa l'interno del bicchiere ah questa cosa brucia gli occhi eccene cos'è è sidro è sidro dovresti bere in tuo onore hai il coraggio che hai dimostrato nella battaglia non è bene bere dall'acqua del bagno lo sai è sidro si ma mi sono appena fatto il bagno guarda posso assicurarti che è usanza comune comunque farsi il bagno nell'acqua da bere ma cosa stai dicendo Tauno senti so di storie devi capire che l'angelo e Tauno sono persone compatibili sono certo di usanze che riguardano il fare il bagno nel latte nel vino e altre simili cose e migliora la qualità della pelle Ulfa nell'angolo ma tipo fa uno spuffo guarda tra l'altro guarda guarda è seco si ma è una movenza diciamo istintiva cioè non è che guarda veramente tipo sposta la testa cosa mi tocca assistere volevo soltanto ringraziarti Spivey si fa un attimo seria e arruisce con la testa con la micro testolina che si ritrova ma tanto io con la mia micro vista che mi ritrova adesso doido sento solo il bicchiere che si agita male è vero Liut il mercante è sempre estremata e vi osserva quando è che possiamo tornare in città Messari quando ritroveranno la loro vista sono stati accecati delle creature più in basso nella fortezza ad una certa poco dopo che hai detto questa cosa Hayden Ulf tipo spatte le palpebre e va indietro con le spalle con la schiena era seduto a terra con l'angolo appoggiato e spatte la testa contro il muro ah cazzo vedo nuovamente vi osserva quindi questi sono i volti degli salvatori guarda verso Akira e ti fissa sono un demone sei fin troppo simile a quella strega demoniaca puoi tornare eppure però mi fido di te è questo che volevo dire devi perdonarmi se ti ho lanciato un'occhiadaccia ma non me l'aspettavo poi guarda verso verso Hayden e anche tu sei peculiare cosa sareste? suo fratello suo fratello i miei fratelli Ulf si mette una mano alla testa sospirando vostra madre deve aver avuto una brutta brutta giornata mi avvicino sorridente a Ulf mi inginocchio non parlare di mia madre è morta di parto Ulf si fa serio e ti osserva negli occhi mi colgo la maschera da Oni è stata mi dispiace tuttissima giornata Ulf fai il bravo non potevo saperla io ho le corna lui è una specie di rampicante vivente che cosa pensi che possa essere successo a mia madre lui Ulf abbassa la testa festivamente dispiaciuto non volevo offendervi qui va bene però amico mio tu ti devi preparare ti devi preparare perché tra poco si parte per la corona del mondo lo sai vero dovevo andare nel minkai lui sorride lui sorride è ciò che vi ha detto un sacco se mi avesse salvata lui puoi scrollare le spalle è bene che sia così dopo tutto ho un debito nei vostri confronti ma il nostro rapporto sarà strettamente professionale beh non sei il mio tipo effettivamente non è un problema e poi sembra risentito da quel che ha detto come se avesse usato troppo prende prende il coltello e inizia a a giochicchiarci cioè tipo a filo a fila si mette nell'angolo e non vi vi considera più sostanzialmente senti io visto tutti i combattimenti fatta che sono morto e risorto io quasi quasi mi abbiocco cioè nel senso non ho proprio a dormire però tipo mi metto appoggiato al muro palpebre chiuse e aspetto interiormente che torni la vita Spive è ancora nel bicchiere come ubriaca persa infatti cioè non è che gli serva molto quindi tra le tensione prima che ti trova la morta nel bicchiere si Spivey stonteggiando nel bicchiere Spivey Spivey stai bene lei scatta in volo verso l'alto e poi crolla a terra perché le ali bagnate tipo si guarda intorno si tocca dolorante cosa succede? non capisco non capisco niente cosa è questa sensazione è la maledizione è la maledizione del bicchiere che ti ha strappato le ali no Spivey tipo si mette le mani sulle guance e fa un'espressione terrificata e poi però scoppia a ridere lo sai come si curano le maledizioni così? no forse è meglio che te lo dico sei sacra a destra non potrei rifiutiamo certi commenti in effetti Spivey tipo scoppia a ridere guarda che l'ho fatto già un sacco di volte quello che dici tu stupido con uno delle mie dimensioni è sicuro te lo farei anche vedere se non fossi così grande e stupido beh si può si può rimediare Aydan hai qualche magia che faccia a casa nostra non ancora ti consiglio di cominciare a pensarci si ti stavo già pensando ah Spivey con lo sguardo sono guarda verso Aydan in croce di braccia siete tutti stupidi lo sapete quanti anni ho ho 522 anni non mi sembrava i maggiori anni però pensavo ne avessi intorno il migliaio sinceramente intorno al migliaio no no prima io non lo so forse ho perso il conto questo tempo si è certo se buttandoti nei bicchieri di sidro immagino che il conto sia difficile si ubriaca la prendo per le avi le strappi lei lei ti guarda ti posi metta una mano sul mento forse no 5122 non mi ricordo non mi ricordo più se sono 500 5.000 cosa cambia fatti un riposino sul mento è tipo boh spy vi fa a mettersi nella tasca tcd non mi sento tanto bene cerca di non vomitare cortesemente vedrai dopo che bello mentre scalano scende una macchia compare sulla tua maglia spy vi se devi farlo avvisa senti senti la la tasca pagnata non per il corpo di spy vi ma perché evidentemente ha vomitato guardi dentro e il vomito è tipo è tipo è vomito celestiale si è vomito celestiale tipo è dorato e non puzza è un profumo si si è un profumo beh in tal caso prego chissà magari sul mercato nero può fare qualcosa questa roba è una fonte inestimabile è una droga un vomito di lira chi provare a fumartelo è un'idea sinceramente siete veramente disgustosi comunque tu non sai le vie di desna vabbè facciamo schifo avanti tipo due personaggi morti ma si semplicemente c'è stato questo due spade beh c'è stato questo intermezzo giusto per regolare un attimo gli spiriti e direi che vi affilate andate verso Karaskar e la prossima volta riprendiamo il vostro il campo si che bello hai finito il modulo che vuoi ufficialmente si andiamo al 7 no andate al 7 durante il viaggio diciamo cioè tipo nelle prime fasi del viaggio fate il retrain e salite di livello quindi però praticamente è la prossima sessione quindi in realtà per la prossima sessione potreste farlo effettivamente ma si livelli basta fatevi fatevi il livello e anche il retrain e poi ce lo roniamo che il retrain lo fate durante infatti non penso che combatteremo nella prossima sessione cioè sarà solo GTR di fatto si probabilmente si poi ci vuole perché dopo questo abbiamo fatto un bel po' di combattimenti ma boh si bella ciao ciao com'era bella come al solito bella bella